ciao a tutti e benvenuti ad un nuovo episodio di no edit il format in cui non faccio edit da cui il l'originalissimo nome allora riprendiamo a leggere da capo la storia come cani di pavlov in quanto le ultime due registrazioni diciamo che non sono state delle migliori perché ho notato e avete notato che l'audio di sottofondo degli uccellini della natura sovrastava la mia voce o forse era la mia voce che era troppo bassa rispetto all'audio della natura quindi io faccio un sorso di caffè e rileggiamo come cani di pavlov di steven r boyette o boyette buon ascolto buongiorno gaudenti campeggiatori strombazza l'altoparlante sulla parete sopra il lettino di merli zung è un'altra magnifica giornata in paradiso un campanello comincia a squillare alzatevi e scintillate merli la campeggiatrice insonolita scivola fuori dalla sua nicchia calda vai a farti scintillare il culo borbotta mentre si alza dal pagliericcio e barcola verso il monitor del computer che troneggia con lo schermo grigio sulla sua scrivania la parola aggiornamento pulsa in mezzo allo schermo lei la sfiora con la punta di un dito e si dirige verso gli indumenti che si è tolta la sera prima e ha lasciato cadere in un angolo oggi è mercoledì 29 dice la sua voce registrata oggi è il 372 esimo giorno operativo di questa stazione merli tira su col naso e fa una smorfia acida al tono giulivo della propria voce di allora dio com'era entusiasta evviva dice l'integrità strutturale dell'ecosfera è pari al 99,5 per cento prosegue spensierata la registrazione con segnalazioni di perdite di vapore e acqueo dai pannelli sopra il quadrante settentrionale dell'ambiente foresta pluviale cristo dice merli odiando la quotidiana allegria di quella voce scivola in un paio di jeans sbiaditi e spiegazzati infilando poi due sandali da contadino il clima insolitamente mite in questa regione dell'arizona ha aumentato i venti di convenzione provenienti dall'ambiente deserto provocando così un aumento dell'umidità nell'ambiente foresta pluviale si possono ipotizzare piogge nel tardo pomeriggio i sistemi di azotazione del terreno sono merli infila una maglietta vede l'etichetta passarle davanti al naso sfila le braccia e le fa compiere una mezza rotazione prima di uscire si ferma sulla porta e guarda indietro il computer sulla scrivania di quercia biancheria sporca cassette di musica pop impilate in un equilibrio precario il letto sfatto se qualcuno fosse entrato là qualcuno che conosceva merli ma non faceva parte della squadra sarebbe riuscito a indovinare chi ci viveva merli distoglie lo sguardo la domanda è assurda le uniche persone al mondo che conoscono merli appartengono al personale dell'ecosfera fa richiudere la porta con un comando a voce e percorre lo stretto corridoio verso uno dei due bagni della stazione tirate l'acqua due volte la strada è lunga per la cucina ha scribacchiato qualcuno con un pennarello nero sulla parete di fronte a lei la scritta è là da più di un anno ormai in tempi più recenti diciamo una decina di mesi prima qualcun altro ha aggiunto più sotto mangiamo merda e più in basso con una specie di ironia profetica qualcun altro ha aggiunto ci siamo già tutti fino al collo merli non ha mai trovato divertenti queste scritte fa scorrere l'acqua una volta sola e si dirige verso la sala recreazione e l'inevitabile i suoi rifiuti si apprestano al riciclaggio e al presso che è imangiabile quattro degli altri sette membri del personale della stazione sono già in sala recreazione billo stronzo è in piedi sul materassino blu per la lotta indossa ancora la sua tuta da ginnastica grigia dell'ucla se gli abiti potessero prendere la lebra avrebbero l'aspetto di quella tuta intorno al collo porta un fischietto d'argento attaccato a un laccio di pelle merli si concede il suo solito pensiero del mattino chiedendosi che effetto farebbe strangolare billo stronzo con quella cinghia immagina il suo viso severo farsi di porpora i suoi occhi da rettile che si appannano osservando i suoi occhi color stagnola che fissano la porta merli inventa la legge di zung la più grossa testa di cazzo e la persona in comando di solito si possono abbattere con la stessa pallottola grace la pallida siede tristemente a un tavolo da gioco con la spina staccata tamburellando con le unghie sul ripiano di vetro scuro merli scrolla al capo dopo un anno grace sembra ancora una persona alla disperata ricerca di una sigaretta lei si accorge che merli la osserva e china il capo con un sorriso storto merli pensa di restare a fissarla fino a farla diventare ancora più matta ma a cosa servirebbe afflosciato contro il saccone nell'angolo come un maratoneta spompato c'è Dieter le sorride insonolito e si gratta la folta barba a castana fammi crescere del caffè le dice col suo gradevole ringhio da rottweiler e ti sturerò le tubature per tutto l'anno prossimo lei sorride e scuote la testa niente chicchi ribatte è diventato il loro rito del mattino Dieter sacoda significa in realtà quella scrollata di testa lui le ha già sturato abbastanza le tubature tante grazie seduta a piedi nudi nella posizione del loto sul tavolino pieghevole per giocare a carte c'è la piccola bonni testa rossa fa un sorriso caloroso a merly cercando di farla intuire il legame spirituale che secondo lei dovrebbe esistere fra loro poiché bonni si interessa di metafisica e merly è cinese merly si sforza di apparire imperscrutabile entrano dick e aifa una coppia male assortita lui massiccio e lei sottile lui villoso e lei liscia lui un texano divoratore di manzo del tipo vecchio mio non sparare finché non vedi il nero della loro pelle e lei una vegetariana nata in israele ed educata a oxford naturalmente sono innamorati merly li degna di un'occhiata di sfuggita mentre le passano accanto tenendosi per mano come bambini e vanno a sedersi sul divano ad aria compressa dick e aifa le restituiscono la cortesia sono diventati yin e yang una unità per conto loro all'esterno della quale esiste l'intero resto del mondo un'ulteriore prova se necessario che esiste davvero l'amore circostanziale l'amore in un determinato contesto l'amore in scatola l'ultimo a entrare è leonard willard leonard è il membro più giovane della squadra sempre inclini a compensare la propria inesperienza con un'ansia infantile di compiacere tutti ma trascurando il fatto che leonard avrebbe potuto essere uno dei moschettieri originali merly considera il suo permanente buon umore un indizio della profondità del pozzo senza fine della sua volontà di illudersi la stazione ecosfera è il suo mondo tutto quello che si trova oltre le sue pareti stagne è un film che lui ha visto una volta sola in bianco e nero a tarda ora quando era ancora un bambino e che quindi lui non ricorda bene come era prevedibile billo stronzo suona il suo fischietto non appena entrata l'ultima persona ok truppa serrate le file gli piace chiamare truppa i membri della squadra adesso porterebbe ancora i suoi occhiali a specchio da aviatore se merly non li avesse gettati nell'oceano lei si mette in fila con gli altri sulla stuoia per iniziare gli esercizi di ginnastica ritmica o come li chiama billo stronzo i loro esercizi di aerobica cardiovascolare capitolo 2 pisellina sputa la gomma sulla moquette grigia a pelo raso non sa di niente spiega marmittone scoppia a ridere senza camicia la sua pancia pelosa sussulta dove speri di trovarne un'altra bimba nostromo qualcuno chiama del reparti del piano superiore quel maledetto stronzo nostromo pisellina alza le spalle e volta il culo a marmittone va a raggiungere un gruppetto radunato chiedo scusa dietro uno degli scaffali più alti 0900 storia americana uno del gruppo sfila un libro da uno scaffale e lo lancia dietro l'angolo poi fa un gesto sconcio a qualcuno che marmittone non è in grado di vedere la mano viene ritirata in fretta mentre da ingegneria parte una bordata di risposta il libro rimbalza sul pavimento e si ferma aperto come un pipistrello stanco vicino al piede sinistro di marmittone tabelle comparate di resistenza delle leghe alla trazione marmittone non tenta neppure di interpretare il titolo ma si piega raccoglie il libro e stacca la gomma di pisellina dalla pagina con un grafico a cui è rimasta attaccata accosta le dita le labbra screpolate e soffia poi le infila in bocca le tira fuori e le asciuga sui jeans escuciti dovunque tranne che intorno ai passanti della cintura stupida puttana dice e mastica un sonoro ceffone dal piano superiore marmittone alza gli occhi e vede quello spilungone di tex scaraventato contro un altro scaffale lo scaffale si inclina ma non cade i libri invece si perché cazzo urli amico nostromo incombe sopra il corpo magro di tex che ha portato una mano alla guancia arrossata nostromo rimane là fermo un istante fissando tex ai suoi piedi con le mani piantate sui fianchi poi si china e aiuta tex a rialzarsi lo spolvera e gli batte su una spalla senti mi dispiace averti colpito però devi piantarla di continuare a urlare capito certo dice tex la sua mano si stacca dalla guancia infiammata e lui si guarda il palmo controlla se c'è sangue si domandava armittone non sto sbatigliando certo però insomma cioè mi chiedevo voglio dire guarda gli scaffali della biblioteca che lo circondano cos'è che ci possiamo trovare qui dentro nostromo aggrotta la fronte si guarda intorno una mano stiracchia il viso di topolino che gli penzola dall'orecchio destro torna a fissare tex con un sorriso storto libri dice marmittone trova spassosa la battuta e quasi ingoglia la sua gomma che cos'hai da ridere dice la voce dall'alto marmittone scuote semplicemente il capo anche nostromo scuote il capo ma per motivi completamente diversi cazzo dice un tempo io frequentavo questo istituto scende le scale con due libri rilegati sotto l'umbraccio l'università dell'arizona borbotta marmittone inclina la testa per vedere i titoli nostromo gli dà tutti e due marmittone li solleva uno per ogni mano all'altezza del viso le sue labbra si muovono in silenzio sulla fronte gli spuntano alcune rughe nostromo picchia con un dito sul libro nella mano sinistra di marmittone principi di modifica del comportamento dice poi picchia su quello più grosso nella destra di marmittone radiazioni e danni ai tessuti cerebrali allaccia le mani dietro la schiena e uscilla avanti e indietro raggiante dai un esame? nostromo scrolla la testa no! lo danno le teste morte credo di poterle addestrare a cercare cibo per noi cibo vero marmittone fa un rumore simile a una scorreggia merda non ci riusciamo noi a trovare del cibo vero come ti aspetti che possono farcela loro? il nome Pavlov ti dice nulla? no! nostromo sospira a volte mi chiedo perché continuo a restare con delle mezze seghe come voi marmittone impila i libri ma come speri di dio ti spacchi nero si voltano entrambi all'urlo proveniente da ingegneria mi hai fatto male pezzo di merda! e allora perché non ti sei spostato? ribatte storia americana quello che hai tirato a me è l'ultima urla qualcosa di pesante scagliato contro una parete uno scaffale rovesciato addosso a un altro scaffale suoni di mischie e strilli di incoraggiamento mentre storia americana e ingegneria cominciano a darsene come forse innati nostromo si avvicina per calmare le acque se la prende comoda in primo luogo chiedendosi chi diavolo glielo faccia fare sarebbe meglio permettere che l'evoluzione segua il suo corso beh ormai lui è sul posto tanto vale che faccia qualcosa per dividerli sono focaccia e jimmy c'era da immaginarlo focaccia sta avendola meglio naturalmente e con due o tre pugni ha già conciato a dovere la faccia di jimmy i ragazzi bianchi non hanno mai saputo lottare si sporgono avanti per agguantare il braccio color mogano di focaccia mentre il suo pugno si solleva ma qualcosa lo blocca intorno a loro vuoi lasciarti pestare come un sacco di patate da quel nero amico sono sparsi parecchi giornali ce n'è uno con i fogli aperti come un mazzo di carta esteso a ventaglio spaccali il culo dai dai e la pagina superiore mostra le notizie locali il tonfo sordo di un pugno solido contro carne più molle nostromo si china per raccogliere il giornale ehi focaccia facci piano andiamo amico stazione si inaugura questo stronzo mi ha beccato in testa con un libro un libro grosso pezzo di merda nostromo gira pagina spaziale una nuova era spiega per bene la pagina doppia ah nero fottuto ti ammazzo figlio di stazione spaziale si inaugura una nuova era nostromo aggrotta la fronte l'articolo è accompagnato da un disegno a colori adesso finitela dice con calma nostromo e la rissa termina taxon lunedì mattina sotto una tenda 90 km a nord ovest di taxon si è svolta la cerimonia ufficiale che ha accompagnato l'inizio dei lavori per la costruzione di ecosfera un ambiente autonomo in tutto simile a una minuscola terra che può dimostrarsi un passo di importanza vitale nell'eventuale colonizzazione di altri pianeti da parte del genere umano con un costo preventivato di soli 30 milioni di dollari stando alle dichiarazioni del direttore del progetto il professor william newhall della facoltà di scienze dell'ecologia dell'università dell'arizona ecosfera risulterà una stazione ecologica di oltre 140 mila metri cubi completamente autosufficiente la stazione ospiterà 5 ambienti separati consistenti in una foresta pluviale tropicale una savana una zona paludosa un deserto e un oceano completo di pesci con 190 mila litri di acqua salata vi saranno inoltre alloggi per il personale di ecosfera laboratori scientifici bestiame e un reparto agricolo il tutto sistemato su un'area di due acri coperti da pannelli finestre controllati da computer che regoleranno la quantità di luce solare ricevuta anche l'energia elettrica di ecosfera giungerà dal sole grazie a batterie di cellule solari ecosfera sarà una specie di modello in scala ridotta del nostro pianeta ha spiegato la responsabile del settore botanico Merlitzang avremo un po' di tutto il che significa diverse migliaia di tipi di alberi, piante, animali, pesci, uccelli, insetti e perfino diversi tipi di terreno se tutto andrà come previsto dopo che ecosfera sarà stata costruita e rifornita otto ecosferiani saluteranno il mondo esterno e varcheranno l'ingresso a tenuta stagna della stazione e resteranno a lavorare in questo modello ridotto della terra per due anni progettato per riprodurre e mantenere il delicato equilibrio dell'ecosistema terrestre in mezzo a un ambiente ostile al momento attuale il deserto dell'Arizona ma probabilmente Marte verso la fine del secolo ecosfera servirà anche come esperimento per verificare in quali condizioni i futuri coloni interplanetari potranno lavorare insieme in uno spazio ristretto per lunghi periodi di tempo tuttavia Grace Havland, la psicologa della squadra, non prevede alcun problema siamo tutte persone motivate, dotate di spirito d'iniziativa e abituate a risolvere ogni genere di problema ci ha detto ma siamo anche notevolmente diverse l'una dall'altra con interessi estremamente vari credo che questo servirà oltre al fatto naturalmente che la stazione stessa fornirà una quantità enorme di stimoli quali imprevisti potrebbero insorgere? in primo luogo il delicato ambiente di ecosfera potrebbe subire un continua a pagina 16D questo me lo ricordo dice Nostromo mentre gli altri si radurano tutti intorno per vedere cos'è a interessarlo tanto Jimmy si tampona il viso con la maglietta bianca a brandelli hanno cominciato a costruirlo quando andavo ancora a scuola rintraccia la pagina 16D hanno intervistato un gruppo di quegli stronzi prima che andassero a viverci dentro e c'era quella ragazza cinese con gli occhi azzurri il ricordo gli strappa un fischio di apprezzamento e poi abbassa il giornale di colpo aggrotta la fronte e allunga il giornale a Florida che dà una breve occhiata all'articolo e studia il disegno in sezione dell'ecosfera che non è affatto una sfera le sopracciglia scure di Florida si incurvano verso l'attaccatura dei capelli con una mano della dita grosse come viustere e piene di anelli con teschi si gratta sotto il logro giubbotto da cacciatore in pelle poi passa il giornale agli altri e si gratta la nuca sotto la fascia elastica rossa che gli trattiene la lunga coda di cavallo Ed, detto cervello, sbircia l'articolo come se non fosse a fuoco mentre legge e muove le labbra poi guarda Nostromo con occhi cisposi così hanno costruito una specie di stazione spaziale in mezzo a quel fottuto deserto e a noi che cazzo ce ne frega almeno adesso sai perché nessuno ti manda mai all'alimentaria a fare la spesa da solo dice Nostromo non riconosceresti un'opportunità neanche se ti facessi un clistere di panna montata Ed si stropiccia la barba arruffata dacci un taglio furbastro cosa c'entriamo noi? Nostromo scrolla il capo Per te è ancora un mistero grosso come una casa, eh? Guarda gli altri del gruppo Gesù, dice e si riprende il giornale prima di lasciarli Ma che diavolo gli è preso? Focaccia si strofina le nocche sbucciate con due dita dalle unghie spezzate Florida incrocia i suoi bicipiti all'abbraccio di ferro sembrando così due volte più grosso di quello che è già Quella stazione spaziale può tirare avanti per anni senza ricevere nessun aiuto dall'esterno Dice con la sua voce da baritono sorprendentemente melodiosa Si toglie l'orecchino d'argento e si massaggia il lobo Controllano il loro ambiente, coltivano il loro cibo, allevano il loro bestiame Adesso capite? Le sue braccia si distesero Mele, arance, polli, uova Bacon Oh fratello, geme qualcuno dietro Jimmy Ah ormai quei furbastri saranno stecchiti, dice Ed detto cervello Erba, aggiunge Florida Ed detto cervello raddrizza la schiera Canne? Ehi Florida, amico, non mi prenderesti mai per il culo, vero? Come sappiamo che sono ancora là? Domanda Focaccia A quest'ora può darsi che se ne vadano in giro morti come tutti gli altri Florida sorride e si rimette l'orecchino Non lo sappiamo Dice Lancia un'occhiata a nostromo e inarca un sopracciglio Non ancora Marmittone? Ehi, marmittone! Marmittone si volta con un dito ancora nel naso Ciao, nostromo, dice con voce mite Rigira il dito, lo tira fuori Abbiamo ancora quel bambolino? E se lo infila in bocca Lo estrae schioccando le labbra e si stringe nelle spalle Non lo so, può darsi Vuoi andare allo zoo a vedere? Dietro la grata antiuragano all'angolo fra scienze ottiche e fisica Nostromo e Marmittone scrutano intorno Non lo vedo, dice Nostromo Se lo saranno mangiato? No, non lo fanno di solito In qualche modo riconoscono la differenza Picchia sulla grata con entrambe le mani Figure vacillanti si girano Ehi! Urla Marmittone Ehi, teste di cazzo stecchite! Picchia più forte Però Aggiunge con tono più cordiale tenendo d'occhio la loro rigida avanzata Magari lo hanno fatto a pezzi Sono piuttosto stupidi a volte Mentre quelli si avvicinano strascicando i piedi Improvvisamente Nostromo comincia a redacchiare Si chiene in avanti e spalanca la bocca Come se gli avessero mollato un calcio nello stomaco La risatina si allarga e diventa una risata fragorosa Non riesce a controllarla Alla fine si asciuga un occhio con un avambraccio nudo Dove è tatuata un'ancora Dicendo Oh merda! In tono quasi doloroso E poi si asciuga l'altro occhio con l'altro avambraccio Oh Gesù! Chi ha avuto quest'idea? Marmittone soghigna e si passa il palmo di una mano sulla barbetta bionda e rada Ti piace? La mano si abbassa e si uncina con il pollice la tasca anteriore dei suoi levis Florida ha trovato un negozio di magliette nel centro commerciale di Westside Ne ha portate qui un vagone E un gruppo di noi ha tirato fuori le teste morte dallo zoo Una per volta e gliele abbiamo infilate Nostromo scuote il capo sbalordito Una piccola vecchietta raggiunge la grata per prima Le manca un pezzo di naso E quel che rimane sventola contro una guancia vizzita e grigio-azzurra Al ritmo con la sua andatura da sonnambula Va a sbattere con la faccia contro la grata Poi fa un passo indietro con un'espressione vagamente sorpresa che svanisce quasi subito Intorno alla parte superiore del corpo Le penzola una maglietta azzurra sformata e larga in modo ridicolo Con la scritta sto con uno stupido E una freccia che indica verso la sua sinistra Nostromo comincia a ridere Anche Marmittone ride adesso La vecchietta viene raggiunta da un portoricano enorme con la muscolatura da un culturista La sua pelle è colore del muschio Sopra un orecchio dove un brandello di scalpo è stato strappato Si vede una striscia di osso Le braccia e il torace del portoricano sembrano gonfiati a dismisura Indossa una stretta camicola rossa per donne incinte Centrata sui suoi pettorali ipertrofici C'era scritta e una freccia verso il basso Bimbo Le teste morte fanno deboli rumori pianucolosi Mentre si sporgono come cuccioli tristi verso Nostromo e Marmittone Fissando poi la grata che blocca le loro mani Come se fosse una specie di oggetto miracoloso Che è apparso in modo inspiegabile davanti a loro Adesso sono una ventina raccolti intorno alla grata Con le dita scarlatte che frugano attraverso le maglie larghe Niente bambolino Dice Marmittone E in ogni caso non ce la farebbe ad arrivare fin qui Non sa camminare Camminare! Nostromo aggrotta la fronte Probabilmente non imparerà mai! Mentre parla fissa quei volti famerici da annegati Chissà se invecchiano Marmittone strizza gli occhi Bambolino non può essere stato così fin dall'inizio Magari è nato dopo che tutto è finto in merda Poi è morto ed è diventato uno di loro D'accordo ma come facciamo a saperlo? Invecchiano con il passare del tempo? Fa un cenno con il capo verso la grata Un testa morta può morire di vecchiaia? Marmittone alza le spalle Un giorno o l'altro lo scopriremo Nostromo stacca lo sguardo dalla grata Sei un ottimista o che altro? Marmittone si accontenta di sbuffare Chi è quello tutto solo là dietro? Nostromo lo indica Non si muove con una testa morta Chi? Oh Giorgio! Già è piuttosto strano vero? Un autentico Albert Einstein del cazzo Per un testa morta voglio dire Svelto eh? La figura appartata si volta verso di loro Indossa una maglietta marrone con lettere bianche che dicono È morto Jim Le pieghe sulla fronte di Nostromo si fanno più profonde Ci sta guardando Lo fanno tutti amico Per loro noi siamo come quelle grosse bistecche ambulanti dei vecchi cartoni animati No voglio dire che Aguzza lo sguardo Su quel viso c'è ancora qualcosa La sua tabula non è del tutto rasa Boh sarà come dici Sta a guardare Marmittone lascia la grata e va a una rastrelliera di plastica bianca Prende fuori un dischetto che scintilla con i colori dell'arcobaleno Cd dice sogghignando e lo solleva in aria Michael Jackson Thriller Nell'altra mano stringe una pietra Si sposta sulla sinistra del nugolo di teste morte che ancora annaspano vagamente verso di loro Lancia un'occhiata a Nostromo e sposta il compat disc in modo che rifletta la luce del sole Gio 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 Chiama Ehi Gio Gio Fa un salto E leggero sui piedi nonostante la pancia pensano Stromo e scaglia la pietra Gio Gio Fame me Gio Gio chiamano Gio Gio e lanciano senza male solo mangiare E io non muovere loro a Gio Gio dalla loro carne bocche Io allungo fame con luce di caldo sopra con l'uccichio Fuori la grata gli altri fame a ferrare e tirare ma l'uccichio fuori Sollevano la cosa luccicante avanti Io nella grata afferro contro preme in mia faccia e alzo mani fame Non una cosa luccicante ma a mano che tiene infame Gio 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 dicono e io mangerò Quello Dichiara Nostromo osservando la testa morta lanciare da una mano all'altra la pietra che è afferrato al volo È più furbo di una normale testa morta Marmittone annuisce Un fottuto primo della classe Gio Gio Capitolo 3 Bill rimane in sala ricreazione quando gli altri escono Inzuppati di sudore per i loro esercizi di aerobica cardiovascolare Si disperderanno per andare a occuparsi dei diversi lavori che li attendono ogni giorno Mantenere in efficienza l'ecosfera è un'occupazione a tempo pieno per otto persone E mantenere quelle otto persone in forma e ricettive alle necessità della stazione ecologica Irribustire il loro esprit de corps Aiutarli a comprendere fino in fondo le loro responsabilità verso coloro che hanno investito nella stazione Verso la scienza Anzi verso l'intera razza umana È un fardello gravoso Ecco perché Bill è lieto di essere lui a doversene occupare Perché solo lui fra quelle otto persone possiede la disciplina e le capacità organizzative Le qualità del comando Indispensabili a mantenerle tutte e otto funzionanti come una singola unità E come unità sapranno tenere duro Bill vede se stesso come il capitano di una scialuppa di salvataggio Capace di costringere gli altri a dividere le loro fatiche e le razioni A volte estremo nella sua severità e disciplina Ma quando arriveranno i soccorsi ringrazieranno tutti Bill Per avere guidato con polso fermo la loro piccola nave Sì, tutti quanti Va a un armadietto e ne toglie un fioretto da scherma Saggia l'impugnatura Si mette in posizione e solleva mollemente la mano sinistra sopra e dietro il capo Hangard Lama in cart Blocco, parata, replica, fondo Ha! Lui è d'Artagnan Il vino della vita del suo avversario zampilla sulla stuoia Touché! I maiali, nel loro piccolo porcile vicino all'angolo Formato dall'abitato umano e del reparto agricolo Sono affidati a Grace Fra tutti i lavori ingrati nella stazione che deve sobbarcarsi Anche se non rientrano nei suoi compiti La psicologa del gruppo trova il lavoro con i maiali quasi sgradevole Anzi, gradevole È certo assai meno fastidioso del lavoro con la squadra Grace è una comportamentista È una comportamentista Si troverà sempre meglio a lavorare con maiali piuttosto che con esseri umani I maiali nel loro porcile simile a una semplice scatola di Skinner Sono più facili da controllare e dirigere di quegli altri maiali eretti nella loro porcilaia Tanto più grande e labirintica Il terreno intorno a lei si oscura E Grace solleva gli occhi verso una nuvola che sta passando davanti al sole Distorta dai pannelli di vetro triangolari sopra la sua testa Si chiede svogliatamente quanto tempo è passato dall'ultima volta che è uscita dalla stazione Poi si stringe nelle spalle Che differenza fa? Si china per dare un buffetto sulla testa rotonda di bacon Ha battezzato i maiali in modo che i nomi le rammentino la loro funzione primaria Per evitare di legarsi troppo emotivamente a loro Bacon, cotenna, bracciola, hot dog, salsiccia e prosciutto I maiali sono splendidi Non solo tengono sgombro il quarto diacro di terreno riservato alla coltivazione delle verdure E nel frattempo lo fertilizzano Ma sono anche gli animali straordinariamente socievoli Affettuosi e intelligenti Tutte cose che una qualsiasi ragazza di campagna sa benissimo Ma Grace ha consacrato la sua vita alla faticosa scienza di manipolare gli esseri umani E solo di recente è diventata un'estimatrice della mirevole maiale Se solo la squadra fosse altrettanto facile da controllare Umilmente Grace cerca di dire a se stessa che sta solo facendo il suo lavoro Ma la verità sacrosanta È che se non avessero avuto qualcuno come lei a mantenerli psicologicamente stabili per tutto questo tempo Dio solo sa se sarebbero riusciti a durare così tanto Pensa agli altri membri della squadra uno alla volta Mentre bracciola e salsiccia si strusciano contro le sue caviglie Grace conserva una scheda personale per ognuno di loro E l'aggiorna quotidianamente con le sue osservazioni e impressioni ricavate dalle sedute insieme Fortunatamente le sedute sono diminuite per numero e per importanza Una misura del tutto naturale del momento che tutti sono così equilibrati mentalmente Così dannatamente equilibrati Così enormemente adattati Bracciola squittisce E Grace si accorge che stava strizzandogli a tutta forza un suo povero orecchio Lo lascia andare e gli accarezza la testa massiccia Su su dice Su su Ripensa al libro che scriverà quando tutto sarà finito Venderà bene Finirà nella lista dei titoli più venduti Impugnando una penna immaginaria Si esercita a scrivere il proprio nome Bonnie non è lontana da Grace Sta lavorando senza camicia sotto il sole del primo mattino Inginocchiata fra le tre alte file di piante di Gran Turco Il reparto agricolo è simile al tabellone colorato di un gioco per bambini Con riquadri destinati a Gran Turco Patate, fagioli, piselli, zucchine, carote e pomodori Bonnie vorrebbe coltivare delle angurie Ma richiederebbero troppa acqua per essere giustificabili ecologicamente Se non altro c'è il piccolo frutteto vicino alla parete e laggiù Proprio accanto alle verdure Con mele, arance e limoni Il terreno è il più ricco possibile Essendo stato prelevato in origine da ogni angolo degli Stati Uniti Ma quel posto è ancora negli Stati Uniti? Si domanda Bonnie Di sicuro deve essere da qualche parte Ritorna al suo lavoro esaminando i fusti e scostando i lembi dei cartocci Per controllare se vi sono insetti Negli stretti corridoi di comunicazione fra il reparto agricolo e gli ambienti Esistono diverse porte isolanti Ma gli insetti riescono sempre a intrufolarsi Nonostante le sue potenzialità produttive L'ecosfera non è mai molto lontana dalla morte per inedia E anche la perdita di un solo raccolto a causa degli insetti potrebbe essere Beh, meglio non pensarci A Bonnie piace lavorare con le piante Non nello stesso modo in cui se ne occupa Merli Con il suo modo sterile, calibrato, scientifico Ma in una specie di modo olistico In modo quasi organico Sì, è giusto, organico Quella parola la fa sorridere Bonnie sente un legame con le piante Con l'interconnessione che esiste fra tutte le creature viventi Le piace sentire il calore del sole sulla pelle nuda, lentiginosa Perché questo le ricorda l'ironica combinazione di ciò che al tempo stesso La rende speciale e insignificante Il sole è una palla indifferente di gas in fiamme Lontana quasi 140 milioni di chilometri Eppure senza il sole non potrebbe esistere la vita Siamo tutti fatti della medesima materia delle stelle Era solito dire Carl Sagan Ebbene, Bonnie sente quella materia nelle cellule del suo stesso corpo Canta lungo le catene intrecciate del suo DNA Non sente certo la mancanza del sesso Il sesso non le serve Lei non pensa nemmeno più al sesso Si mette seduta e chiude gli occhi Respira profondamente Om Mani Padme Om Che ha bisogno del sesso quando esiste tanta passione In un atto così semplice della vita Come il respiro Scopre un insetto in un cartoccio E lo schiaccia fra il pollice e l'indice Leonard Willard raccoglie la merda di tutti ogni giorno La mette in fiale, l'etichetta e la cataloga Analizza e registra i risultati Si occupa del funzionamento e della manutenzione Dell'impianto di riciclaggio dei rifiuti E dei sistemi di filtraggio biologici e meccanici È un lavoro sporco Ma qualcuno deve pur farlo Se nessuno lo facesse L'ecosfera non funzionerebbe A Leonard piace considerarsi L'anello vitale nella catena alimentare della stazione Il filtraggio è la sua vita L'ecosfera gli fornisce numerose opportunità Di sentirsi realizzato Esistono sistemi di filtri Nella loro rete fognaria Nelle unità per l'eliminazione dei rifiuti Negli impianti per il riciclaggio dell'acqua Ci sono impianti di dessalinizzazione Fra l'oceano e le paludi di acqua dolce Ci sono impianti di filtraggio dell'aria E l'aria viene inoltre ripulita Pompandola sotto l'ecosfera E lasciandola filtrare attraverso il terreno In parecchie zone Leonard ama purificare le cose Prendere una cosa inutilizzabile nel suo stato attuale E facendola passare attraverso tamponi e barriere e filtri Distillare qualcosa di utile e necessario Questo lo fa sentire utile Necessario La squadra non potrebbe respirare senza di lui Non potrebbe bere senza di lui Senza Leonard la squadra non potrebbe neppure permettersi una salutare cagata Senza Leonard tutta la loro merda non servirebbe a nulla Leonard soffre del morbo di Holkin Una forma di cancro al sistema linfatico Anni fa la radioterapia gli ha provocato la caduta di tutti i capelli E ha stabilizzato abbastanza le sue condizioni per consentirgli di ricorrere alla chemioterapia Che è servita solo a instupidirlo e a farlo sentire spaventosamente male per due giorni ogni mese Ha cominciato a riacquistare peso e i capelli gli sono ricresciuti Ancora più folti di prima E i medici Sono stati Incoraggiati a pensare che la sua condizione si fosse stabilizzata In qualche modo il suo corpo aveva imparato a vivere con la malattia Oppure Da una prospettiva diversa Lui pensa, infilando una mano guantata in una condotta dell'acqua per estrarne quello che sembra un filtro sporco del condizionamento d'aria Che è la malattia ha permesso al suo corpo di vivere In modo da poter continuare ad alimentarsi Ecco perché Leonard si preoccupa raramente per le creature che infestano all'esterno Quelle cose che Bill ha etichettato carnitrofi Non se ne preoccupa perché il suo corpo è già divorato dall'interno O, per dirla in puro stile da Leonard C'è della merda nel suo sangue E lui non riesce a tirarla fuori A filtrarla fuori Scuote il filtro bagnato su un foglio di plastica Ne cadono spessi filamenti neri Leonard pulisce il filtro con un getto di aria compressa Lo rimette nella condotta, poi chiude con un nodo i lembi del foglio di plastica Camminando con il suo sacchetto gocciolante verso il laboratorio Leonard pensa che ormai non esiste più un altro posto sulla terra dove lui potrebbe svolgere il suo lavoro Leonard sente di essere il membro più realistico dell'intera squadra E di sapere come vanno veramente le cose oltre le pareti del loro piccolo ambiente artificiale Pur collaborando a conservare la stazione E pertanto l'illusione che la stazione rappresenta Capisce intuitivamente che i suoi motivi per trovarsi lì sono del tutto differenti dai loro Gli altri conservano l'ecosfera come un rifiuto di ciò che è cambiato all'esterno Lui la conserva come una trionfale affermazione della stessa cosa Come sopra, così sotto Nessuno degli altri, essendo fisicamente sani, può apprezzare questo Di conseguenza nessuno degli altri può apprezzare Leonard in modo adeguato Ma lui continua a ostentare una parvenza di allegria Per lui è importante farlo In laboratorio apre il foglio di plastica e tira un profondo respiro Questa è la materia della vita E non lasciate che qualcuno venga a dirvi il contrario Dick e Haifa stanno scopando sulla spiaggia lunga nove metri Dick e Haifa stanno sempre scopando da qualche parte Oh guarda, dice Haifa, indica con una mano e il loro ritmo si interrompe Sotto di lei, Dick gira la testa per guardare verso l'acqua Insensibile alla sabbia che si infila fra i suoi capelli tagliati a spazzola Non vedo niente, dice Un pesce, dice lei Poi gli mette le mani sul petto e ricomincia Venerdì pesce, dice lui Magari riesco a prenderlo Oggi che giorno è? Non lo so L'accento di Haifa che un tempo lo affascinava Adesso gli riesce invisibile Mercoledì Il giorno in cui può succedere di tutto, dice lui E inarca la schiena mentre comincia a venire Sul tetto sopra di loro Dieter, il biologo marino, osserva attraverso il vetro A volte per lui l'ecosfera è un gigantesco acquario Osserva Dick e Haifa privo dell'ottica del guardone Spinto solo dal desiderio di alleviare la noia Durante i primi mesi Chiunque andava con chiunque in svariate combinazioni Poi si erano formate alcune coppie che in breve si erano dissolte Vuoi per attrito, per entropia E adesso tutti costituivano più o meno altrettanti singoli ambienti isolati In questo erano simili alla meraviglia scientifica nella quale vivevano Ma che nessuno chiamava casa Dieter dovrebbe essere la sua a pulire i pannelli solari La polvere del deserto dell'Arizona si accumula sul tetto di vetro e alluminio dell'ecosfera E quando è troppo spessa, sulle cellule solari l'alimentazione elettrica della stazione diminuisce Ma i pannelli solari sono tanti Ed è una calda giornata di luglio nel deserto dell'Arizona Dieter fa pause frequenti per bere qualche sorso d'acqua Là sotto, Dick e Haifa sembrano aver finito E lui distoglie lo sguardo Si alza con le mani sui fianchi Voltandosi per contemplare la curva e luccicante geometria di vetro e alluminio Che è la stazione L'ecosfera è stata costruita nel fianco di una piccola collina La foresta pluviale nella parte superiore è sollevata di 12 metri rispetto al deserto sottostante Che dista inoltre un paio di centinaia di metri L'aria rovente si solleva dal deserto e sale verso la parte alta della collina Nella foresta pluviale i condensatori raffreddano l'aria e separano l'umidità Ci sono vere e proprie piogge nella loro piccola foresta Dieter guarda la piramida azteca di vetro e alluminio che ricopre la foresta pluviale Cosa si proverebbe si domanda a saltare dalla cima Un senso di libertà L'eoforia dell'assenza di peso E poi il terreno A cancellare ogni pensiero Ogni preoccupazione Ogni dolore Ogni paura Ma una caduta di 24 metri potrebbe non ucciderlo E anche se questo accadesse lui si rialzerebbe e ricomincerebbe a camminare No Una pallottola nel cervello è l'unico modo sicuro di andarsene Pensa a Laconico mentre si china a raccogliere i suoi stracci E la bottiglia a formato famiglia di Windex Peccato che Bill avesse avuto la lungimiranza di chiudere a chiave le armi Che avevano racimolato durante quella spedizione a Tuxon un anno prima Guarda a sinistra Oltre il bordo e giù nel parcheggio dietro all'abitato umano La Jeep Cherokee e la Land Rover sono sempre là Sarebbe così maledettamente facile Basterebbe salire e mettere in moto una di quelle bimbe Magari si dovrebbe ricaricare la batteria ma non sarebbe un problema Infilare la marcia e andarsene Lui lo farebbe anche subito Se ci fosse un solo fotuto posto dove andare E Merli scende da un albero Molla le cesoie per potare Scioglie l'imbracatura e la lascia cadere ai suoi piedi Si asciuga la fronte È incredibilmente umido là dentro Tropicale è una parola così ingannevole, pensa Evocatrice di immagini di cibi esotici e di spiagge vergine Tra i rami più alti dell'albero che stava potando Non si stava così male Il perpetuo liseo dal deserto ai piedi della collina era rinfrescante A terra però la brezza è bloccata dal fogliame fitto E il clima rimane sempre umido Guarda uno scoiattolo correre sui rami Incominciano ad avere problemi con gli scoiattoli Stanno morendo e nessuno sa con certezza perché Merli era contrario alla loro presenza fin dall'inizio Sono roditori piccoli e sporchi Capaci solo di trasmettere malattie E di vivere rubando tutto ciò su cui riescono a posare le loro zampette avide Sono simpatici a tutti perché possiedono caratteristiche neoteniche Teste grosse in rapporto al corpo Occhi grossi in rapporto alla testa In altre parole sembrano bambini E tutti amano i bambini Beh adesso l'evoluzione su scala ridotta si sta occupando di quegli stronzetti Quindi Merli pensa di aver dimostrato agli altri che aveva ragione Nessuno vuole mai darle retta perché lei è una botanica Che tutti sanno essere solo una parola più elegante per giardiniere Ha conosciuto la signorina Tsung La nostra giardiniera cinese Oh le chiedo scusa Madame Tsung La nostra botanica asiatica Si asciuga le mani sui jeans e scende dalla foresta pluviaria verso la vegetazione più rada nei pressi della spiaggia Apre una porta isolante e percorre un corridoio di accesso Poi esce dall'altra porta all'estremità opposta Bonnie a seno nudo la saluta mentre lei attraversa un angolo del reparto agricolo Merli la ignora ed entra nella sezione scorte di habitat umano Scorte scorte dice Da un armadio metallico sul cui portello è scritto scorte esterne Prende la tenda a due posti e un sacco a pelo Divigendosi verso la porta principale incontra Billo stronzo che sta entrando Lui le si ferma davanti Le sopracciglia inarcate E non sembra propenso a togliersi dai piedi Di nuovo? Dice Guardando la borsa di nylon blu della tenda e il sacco a pelo arrotolato Non credo davvero di approvare questo tuo atteggiamento antisociale Merli Tutti hanno bisogno della loro intimità Ma tu Fai di tutto per emarginarti da noi Merli tiene la tenda e il sacco davanti a sé come uno scudo La sua bocca forma una O Mentre il viso mimma un ricordo improvviso Oh mi dispiace tanto Dice Questa sera eravamo invitati al party del sottosegretario Non è vero? Oppure Derek e Haifa dovevano darci una dimostrazione di Kamasutra L'ho scordato Grace mi dice che non ti sei presentata le ultime due sedute Si strofina la mascella che tende a inflaccidirsi con il pollice e l'indice Dei quattro uomini della squadra Bill è il solo che continua a radersi Il suo marchio della civiltà che si sforza di mantenere Un altro punto a favore dell'Homo Gillette Lei ride E chi altri c'è andato? Ho tempo per le sue stronzate Lei è la più sballata di tutti noi Dille che è colpa della mia cattiva educazione con la tavoletta del cesso D'accordo? Sto solo cercando di esprimere la mia preoccupazione per la tua mancanza di collaborazione Dice lui con il tono opacato della convinzione psicotica Tutti devono collaborare se vogliamo uscire da... Uscire? Uscire Bill? Cosa credi che sia questa? Una specie di fase che il mondo sta attraversando? E magari dovremmo uscirne migliori? Penso di poter comprendere il tuo risentimento verso l'autorità, Merly Ma devi convenire che un qualche tipo di gerarchia è necessario alla luce di... Autorità? Lei si guarda intorno come se si aspettasse un regista a gridare stop Perché non mi fai un favore, Bill, e vai a farti fottere? Lo supera con uno spintone Questo dovrà essere segnalato nel mio rapporto Lei apre la porta Altri punti di demerito? Pianucola rivolgendosi alle file di verdure Perbacco Mi... mi fai vergognare di me stessa Si gira per fargli un sorriso sfottente Poi cerca di sbattersi la porta alle spalle Il cardine idraulico sopra il battente Sessibile che sarebbe meglio se non ci provasse Un'ultima strofinata con uno straccio sporco E Dieter soghigna la propria immagine riflessa Riesco a vedermi! Dice Raccoglie gli stracci sparsi intorno a lui sul vetro Ciò che non si spreca non va sostituito La regola aurea dell'ecosfera Si alza e osserva il deserto circostante Come esperimento di conservazione di un ambiente artificiale Nel bel mezzo di un ambiente completamente alieno L'ecosfera è un incredibile successo Loro sono un'isola di vetro sulla superficie rugginosa di Marte Si stiracchia i muscoli anchilosati E respira la secca aria marziana Dieter Schmeling Nudo sulla pianura aliena L'unico essere umano in grado di resistere a... Agrotta le ciglia Si toglie il sudore della fronte Si ripara gli occhi con una mano Strizza le palpebre Si piega in avanti Un tunnel di polvere Un'increspatura nel deserto Una gigantesca talpa marziana Che scava verso l'isola di vetro degli invasori Un anticorpo marziano Che avanza per attaccare la cellula aliena Che ha invaso il suo organismo Un'auto Capitolo 4 Merli sta montando la tenda nel deserto Quando l'altoparlante della stazione lancia uno squillo elettronico Bong Tutto il personale al frutteto Ordina Billo stronzo Bong Tutto il personale si presenta immediatamente al frutteto E la trasmissione termina con un click Che sicurezza Che presunzione Quel figlio di puttana è certo che tutti correranno là Bong Merli pensa di non presentarsi Tanto per rammentargli Che la sua autorità dipende interamente dal loro tacito consenso Ma la curiosità Ha la meglio su di lei Nonostante ciò che pensa di lui Sa che Bill non li convocerebbe mai Durante l'orario di lavoro Senza un valido motivo Ma quello che Bill considera un valido motivo Non lo è necessariamente per lei Merli sospira Estrae i paletti E fa il giro del promontorio Superando i cespugli La savana L'oceano Entra nel corridoio di accesso meridionale Attraversa l'area delle coltivazioni E arriva al frutteto Gli altri sono già arrivati Tranne Bill Le voltano le spalle Mentre guardano dalle finestre Immagino che ci staremo tutti chiedendo Per chi ci hai chiamati Dice Marli Dieter si volta e le fa segno di avvicinarsi Lei coglie una mela da un albero E si avvicina Addenta la mela E Dieter aggrotta la fronte Lei sogghigna E gli offre la mela Eva cinese Il cipiglio di Dieter si accentua E lei ride davanti a un'aria così seria Lui le fa spazio E le indica la strada nel deserto Dritta come un fuso Ma il gesto non è necessario Marli vede l'auto Diretta verso di loro È solo a cinque o sei chilometri Avrei dovuto preparare una torta Dice Ma dentro avverte una contrazione Qualcosa che si tende Bill li raggiunge Portando una doppietta Marli sente un tuffo al cuore E per un attimo la certezza Che Bill voglia ucciderli tutti quanti È così Lei lo sapeva che un giorno o l'altro Sarebbe successo Dick fa un passo avanti E prende la doppietta Dalle mani di Bill Quest'ultimo è talmente sorpreso Da questa Questa usurpazione Che lo lascia fare Dick apre la doppietta Ed estrae le due cartucce Di plastica rossa corrugata Le osserva Restituisce cartucce e doppietta Bill Scuote la testa sprezzante E torna al suo posto Probabilmente entreranno nel parcheggio Dice Bill Io esco sul tetto Nel caso che tentino qualcosa Da una tasca posteriore Tira fuori una sottile Errato ricce trasmittente La consegna a Dieter Se avrò bisogno di voi Vi chiamerò Dice Si rivolge a Leonard Parla con loro usando l'impianto Nella sala di controllo Ordina Scopri cosa vogliono E falli allontanare Quanto alle signore Prepareremo il caffè Suggerisce Merly Voglio che restiate fuori vista Io voglio un'arma Bill scrolla il capo Si volta e si dirige Verso l'abitat umano Dove si trova il portello stagno Tutti lo seguono Poiché la sala di controllo È l'estremità a nord Dell'abitat umano Merly raggiunge Bill Allora dammi la chiave Dell'armeria Insiste Non puoi portarla Con te se vuoi farti Sparare nel culo sul tetto Lui aggrotta le ciglia Ma non riesce a trovare Difetti nella sua logica Prende un portachiavi Attaccato con una catenella Avvolgibile alla sua cintura E sceglie una chiave Non la porgi a Merly Ma a Dick Poi si volta E si allontana al trotto Merly lancia Un'occhiata verso i meri L'auto è a circa Tre chilometri Dentro l'habitat Bill gira verso destra Un incrocio a T Gli altri girano verso sinistra E salgono una rampa di scale Entrano nella sala di controllo Tutti Tranne Dick Che fa un soghigno a Haifa Lancia in aria la chiave dell'armeria La ferra al volo E corre giù per il corridoio La telecamera 1 È già puntata sul riquadro asfaltato Del parcheggio Leonard attiva la telecamera 2 E le fa compiere una panoramica Gli altri si raggruppano intorno alla sua poltroncina Pronto pronto Dice la radiollina nella mano di Dieter Mi sentite passo Forte e chiaro amico Risponde Dieter Poi rotea gli occhi Sono sul tetto e mi dirigo verso il reparto agricolo Che offre una copertura migliore Passo Bene Voglio dire Insomma Passo Leonard si volta verso Dieter Sto per provare l'impianto Chiedigli se può sentirlo Dieter trasmette il messaggio E Leonard dice Prova 1, 2, 3 Nel microfono Forte e chiaro Dice Bill Sentite Se c'è qualche Eccoli che arrivano Passo e chiudo L'auto è una El Camino nera e polverosa La telecamera 1 La inquadra mentre entra nel parcheggio Lentamente E si ferma accanto alla Land Rover L'uomo al posto di guida Aspetta che la polvere si depositi Dagli altoparlanti giunge il suono del motore al minimo Poi Il suo rantolo sussultante Dopo che viene spento Il guidatore apre la portiera E scende Reggendo un fucile a pompa Si gira Dice qualcosa al passeggero Su una El Camino non c'è posto per più di due persone E raddrizza le spalle Chiude la portiera e si avvicina all'ecosfera E' il primo essere umano che vedono da più di un anno Ehi! Chiama Uno squittio di ritorno acustico E Merlis obbalza Leonard regola l'amplificazione Ehi! C'è qualcuno là dentro? Leonard pigia un pulsante La telecamera 2 parte in zoom E' giovane Sulla ventina Ha i capelli lisci e scuri Lucidi Legati a coda di cavallo Che gli arrivano fino alla vita Un paio di jeans grigi e sbiaditi Con buchi sulle ginocchia Rattoppati con filo bianco Sotto una camicia a scacchi bianchi e neri Sbottonata e con le maniche rimboccate Dal lobo destro Gli penzola un orecchino Ehi! Chiama di nuovo Leonard inserisce il microfono Si schiarisce la gola impacciato E l'uomo fa un passo indietro Il suo fucile si solleva Vi sentiamo! Dice Leonard L'uomo si guarda intorno Cercando la sorgente della voce Leonard dà un'occhiata agli altri Che cosa volete? Dice nel microfono Il fucile si abbassa Cibo Solo cibo Mia moglie e io siamo Non mangiamo da parecchio Dick arriva portando una bracciata di fucili e di munizioni In silenzio consegna un'arma a ognuno degli altri sei Continuando a sbirciare il monitor E nostro figlio è molto malato Vogliamo solo del cibo Ce ne andremo dopo Bonnie rifiuta il suo fucile Dick alza le spalle La pelle è tua Se adesso diamo loro del cibo In seguito verranno a chiederne ancora Dice Grace Probabilmente con qualche amico Aggiunge Dick Consegnando un fucile a Merly Leonard manipola i comandi La telecamera 2 ruota a sinistra Inquadra la El Camino E riparte in zoom Leonard regola la messa a fuoco C'è una giovane donna sull'auto Con in braccio un fagotto che potrebbe essere un bambino piccolo Leonard guarda Dieter Che alza le spalle Sulla telecamera 1 l'uomo aspetta Leonard grotta la fronte e riaccende il microfono Come sapevate che eravamo qui? Un alito di vento solleva il dietro della camicia del giovanotto C'era un articolo sul giornale Nella biblioteca di Tuxon Ho pensato che forse eravate ancora qui Si guarda intorno e si asciuga la fronte Fa caldo qui fuori Dice Peggio per te amico Dice Dick Merly gli lancia un'occhiataccia Dieter si porta accanto a Leonard Forse dovremmo ecco Dirgli di fare uscire la moglie dall'auto Dice Leonard Leonard solleva gli occhi E se lui non vuole? E se lei non vuole? Aggiunge Bonnie Ehi Chi sta affogando non fa tanto il pignolo? Ribatte Dieter Lo faranno Leonard torna a voltarsi verso il microfono Dica a sua moglie di uscire dall'auto Non hai detto per favore? Mormora Merly Lei Il nostro bambino sta molto male Dice l'uomo Non Sembra indeciso Poi si volta verso l'auto E cammina dal monitor 1 al monitor 2 Apre la portiera del passeggero E si china all'interno Parlando si guarda un paio di volte alle spalle Leonard regua l'amplificazione Farlo e basta Nessuno ti farà del male Non mi importa come si sente quel piccolo stronzo Fallo e basta E tieni chiuso quel culo di bocca La portiera si spalanca Va bene Dice l'uomo Ora vi prego Potete darci un po' di cibo? Leonard regola la telecamera 1 per inquadrarlo di nuovo Lo guardano agitare esuberante la mano libera Voi ne avete tanto Noi ne vogliamo solo per qualche giorno Quello che basta per attraversare in auto è il deserto Stiamo cercando di arrivare in California Leonard guarda di nuovo gli altri California? Là cosa c'è? Mio fratello Questa è buona Borbotta Grace Aspettate un momento Dice Leonard E spegne il microfono Poi si gira sulla poltroncina con espressione interrogativa Non mi piace Dice Dieter A me anche meno Dice Dick Magari qualche mela o qualcosa Dice Bonnie Merly apre l'otturatore della sua carabina E comincia a infilare piccoli oggetti a forma di missile nell'apertura Certo Dice Dick Vuoi portargli le tu? Uniti nel pericolo per il bene comune Mormora Grace Dieter Dieter mi senti? La voce di Bill Un sussurro deciso Dieter solleva la radiolina Ti sento Bill? Ai comandi Leonard soffoca una risatina Dietro di lui sul monitor L'uomo e la ragazza e il bambino Aspettano la loro risposta Devo parlare piano Non voglio che mi sentano Digli che non possiamo dare loro del cibo Passo Stavamo appunto mettendo ai voti la questione Dice Dieter Non c'è nulla da votare Non avranno cibo Merly termina di caricare il fucile e richiude l'otturatore Nemmeno un paio di mele? Chiede Bonnie Merly la guarda con occhi di fuoco Odiando ogni sua più minuscola cellula Dobbiamo ricordarci sempre l'ecosfera Prosegue la voce sottile di Bill Non possiamo sconvolgere il suo equilibrio Non possiamo introdurre nulla di nuovo O togliere qualcosa di esistente Non possiamo infrangere l'integrità della stazione Merly si mette il fucile in spalla e lascia la stanza Ehi senti Bill Comincia Dieter Ma Bill sta ancora trasmettendo Sate a ciò che rappresenta questa stazione Noi siamo un'unità autosufficiente Coltiviamo noi stessi quel cibo Viviamo giorno per giorno con quello che produciamo Non ci stanno chiedendo molto Mormora Bonnie Siede su una sedia e fissa imbronciata ai monitor Dieter pigia sul pulsante di trasmissione Noi pensiamo che sia una cattiva idea per altre ragioni Dice Grace pensa che se li nutriremo poi torneranno a chiederne ancora Probabilmente lo diranno ad altri, capisci? Passo Esattamente Perché loro lo diranno ad altri E noi saremmo assediati Diventeremo una specie di McDonald gratuito del deserto Un tempio dorato Dice Haifa solennemente E congiunge le mani Dick le pizzica una natica Siamo tutti d'accordo allora? Chiede Dieter Ditegli di no Dice la radiolina A me non sembrano tanto affamati Dice Dick Facciamoli girare a largo Però Mormora Bonnie A me sembra una vergogna Rimane a fissare i monitor e non aggiunge altro Ehi, ehi, ci siete? Leonard inserisce il microfono Siamo sempre qui Dice Sembra più sicuro di sé ora che gli altri hanno preso anche la sua decisione Sentite, noi abbiamo valutato la nostra situazione qui Ne abbiamo discorso e abbiamo esaminato i parametri dei nostri quozienti di assorbimento alimentare Dovete capirci Siamo razionati anche noi Un pasto per voi significa un pasto in meno per qualcuno qui dentro Il suo tono si è fatto caldo Comprensivo Sono certo che capite State dicendo di no? Il giovanotto sembra incredulo Sto dicendo che mi dispiace ma che rapportando la vostra situazione alla nostra Non possiamo davvero Accontentarvi in questo momento Non ci credo Non volete darci tre giorni di cibo Continua a guardarsi intorno Come se qualche argomento persuasivo fosse sparso sull'asfalto del parcheggio È mia moglie È il nostro bambino Sono davvero desolato Dice Leonard In realtà non sembra affatto desolato Anzi, sembra lieto di trovarsi in una posizione che gli consente di rifiutare qualcosa a qualcuno Tanto per cambiare Come un direttore d'albergo estremamente cortese e comprensivo perché non ha più nemmeno una camera libera Ma voi siete venuti qui a chiedere un favore Continua senza più balbettare E non avete alcun diritto di biasimarci se rifiutiamo di concedervelo Un favore? L'uomo solleva il fucile Te lo faccio io un favore figlio di... Resta immobile dove sei figliolo La voce di Bill dagli altoparlanti Il giovanotto esita Non farlo Non voglio spararti ma sono pronto a farlo A giudicare dalla voce Bill non sembra così riluttante l'idea di fare fuoco Sembra invece piuttosto eccitato Ora tu hai chiesto un favore e noi non possiamo fartelo Se potessimo lo faremmo Il mio consiglio è che tu e tua moglie ritorniate sull'auto e vi allontaniate Non andate verso la California ma Phoenix Là dovrebbe esserci del cibo ed è solo a poche ore di macchina Ma noi veniamo proprio da... Allora dirigetevi a sud Comunque non potete restare qui Avete capito? Non abbiamo nulla per voi Ma noi lavoreremo per guadagnarci il cibo Qui non c'è lavoro per voi Questa è una stazione molto sofisticata che richiede personale altamente specializzato Siamo in molti e bene armati Ci serve tutto quello che abbiamo E non è sufficiente per fare beneficenza Mi dispiace figliolo Ma la vita nelle grandi città è fatta così Ti... Bill si interrompe Il giovanotto e sua moglie guardano qualcosa fuori campo Torna dentro! Urla Bill Torna indietro! Subito! È un ordine! Leonard sposta la telecamera a uno per inquadrare il portello a tenuta stagna Che si trova più in basso e sulla destra Poi scrolla il capo e lancia un fischio soffocato Beh! Dice Dieter Che mi venga un accidente! Capitolo 5 Regge il fucile con una mano sola Grazie alla cinghia che le gira intorno alla spalla Ha il dito sul grilletto Nell'altra mano regge un cestino di vimini Non è nervosa mentre si avvicina la coppia Anzi, è sorpresa dalla calma che prova Sopra la sua... Sopra la sua testa Billo stronzo le urla di tornare dentro Lei lo ignora Ma sente un curioso pizzicore fra le scapole Probabilmente perché Bill e quei due È il suo amato capo Quello sicuramente più incline a spararle addosso Di persona ha un aspetto peggiore che sui monitor Lui ha una cicatrice che gli attraversa un sopracciglio Un'altra gli percorre tutta la parte superiore di un braccio Incrociandosi con un'ancora grigio-azzurra Tatuata sul bicipite muscoloso Non è magro Ma ha un'area di nutrita Carenza vitaminica E la ragazza sembra... Beh, logora è l'unica parola che venga in mente a Marley Consumata Gli occhi sono vacui e indifferenti Dal fagotto della ragazza si solleva di nuovo la manina Lei la preme a sé con atteggiamento protettivo E Merley scorge una carne chiazzata Quando il bambino cerca di succhiare il capezzolo della ragazza Attraverso il cotone della maglietta Merley si ferma a tre metri dall'uomo e posa il cestino La ragazza abbassa gli occhi sul fagotto e allontana il bambino dal proprio corpo L'uomo e Merley si fissano in silenzio per qualche istante Com'è? Chiede Merley Inclina la testa Indicando il deserto dell'Arizona Là fuori Parecchio dura Dice lui Lei anuisce ripetutamente Beh Indica il cestino e fa qualche passo indietro Mi dispiace di non poter fare di più C'è frutta, verdura, un po' di carne Un barattolo di latte per il bambino Che malattia ha? Non lo so Beh Nessuno di noi è dottore in medicina Dice lei Ma potreste provare in una farmacia di qualunque città dove andrete O dentro l'ambulatore di un medico Se è un'infezione Provate con l'ampicillin Ampicillin Se è una qualche malattia Beh Degli antibiotici non dovrebbero fargli del male in nessun caso Ma continuate a somministrargli O è una femmina Loro non rispondono Merly alza un sopracciglio e continua Liquidi E portatelo lontano da questo caldo Dopo aver posato il cestino Lei ha continuato a indietreggiare verso il portello L'uomo avanza Invece di raccogliere il cestino alza gli occhi verso il tetto dell'habitat Non ti sparerà nessuno Dice Merly Prendi il cestino E andatevene E non tornate più qui Lui solleva il cestino e indietreggia verso la El Camino La ragazza è già dietro la portiera aperta del passeggero E adesso sale sulla vettura Lui posa il cestino al suo fianco Sale e chiude la portiera L'uomo osserva Merly Annuisce Lentamente Poi mette in moto E inserisce la retromarcia Arretra fino a uscire dal parcheggio Poi compie un mezzo giro E si allontana Per parecchi minuti Merly fissa la coda di polvere lasciata dall'auto Che si deposita lentamente Poi Torna dentro Chi diavolo credi di essere insomma? Sono un ottavo di questa stazione Proprio come te E ho fatto crescere quel cibo almeno quanto chiunque altro Hai disobbedito Un ordine diretto Da parte di qualcuno Che non possiede nessuna autorità su di me Sai tanto quanto lo so io Che la gerarchia dipende dalla natura della crisi Abbiamo messo la cosa ai voti da nazione Nessuno ha chiesto il mio A te l'hanno chiesto Grace Haifa Leonard Bonny Non hai neanche pensato alle ripercussioni Che questo potrebbe avere su di noi? Hai appena gettato un sasso in uno stagno Maledettamente piccolo Cristo santo Bill Ho dato loro cibo sufficiente per tre giorni Se ci andranno piano Anche a noi rimane una margine alimentare di poco più di tre giorni Ogni cambiamento colpisce tutti noi E questo Merly Proprio tu dovresti saperlo bene L'esperimento non può continuare se all'esterno L'esperimento è finito un anno fa Bill Insieme al resto della nostra civiltà Vuoi deciderti a ficcartelo in quella tua testa di cazzo? Ragione di più per tenere duro Conservare in piena efficienza questa stazione significa conservare la civiltà Ma non l'umanità Ehi Merly Bill sta solo cercando di dire che Ecco A volte si devono prendere decisioni dure Sono sicuro che a lui non ha fatto piacere mandarli via in quel modo Non è vero Bill? Certo che no Oh Cristo Sentite salterò un pasto ogni giorno per tre giorni Per pareggiare i conti e fare contenti tutti D'accordo? Questo vi rende felici? Io pensavo che dovevamo darglielo il cibo Sì Bonnie ma tu non hai fatto un cazzo Capitolo 6 Stronzi Nostromo all'acceleratore pigiato al massimo Quei pezzi di merda Pensavo che avremmo raffato un po' di cibo Che avremmo avuto una scusa per dare un'occhiata al posto Vedere in quanti erano rimasti Come era il loro servizio di sicurezza e roba simile Ma per Dio Non immaginavo che ci avrebbero rifiutato il cibo Cazzo al posto loro Noi lo avremmo dato Lo so L'abbiamo già fatto Fottuti figli di puttana Molla un pugno al volante Rifiutare del cibo maledetto bambino Cristo Lancia un'occhiata a Pisellina L'avresti mai pensato? Pisellina regge il bambino con le braccia tese Fissandolo con disgusto Stava masticando Dice con voce spenta Certo che masticava E' una stramaledetta Lei lascia cadere il bambino E comincia ad agitare le mani intorno a sé Come se volessi allontanare delle vespe Stava masticando Stava masticando Cercava di mangiarmi attraverso la maglietta Aveva la sua bocca addosso Oddio E si muoveva E ho pensato Povero bambino E poi mi sono ricordata Nostromo la ferra per un braccio Le assestano scrollone L'auto fa una sbandata Calmati Calmati Per Dio Lei lo fissa con occhi sbarrati Sul tappetino il bimbo artiglia l'aria Come uno scarafaggio steso sul dorso Per metà Fuori dalla coperta che lo avvolgeva La pelle intorno al collo bluastra Là dove il trucco è venuto via Il braccio sinistro mancante Strappato chissà quando dalla spalla Il braccio destro annaspa La bocca senza denti si apre e si chiude I suoi occhi sono di plastica opaca Pisellina raccoglie le gambe sul sedile Dobbiamo andarcene di filato da qui Dice Nostromo Non possiamo dar loro un motivo di pensare Che qualcosa non va per il verso giusto Cerca di restare calma Finché non saremo oltre quell'altura laggiù La vedi? Intesi? La voglia fuori di qui Fra un minuto! Lui sembra divertito dalla sua repulsione Sbuffa Chiudi gli occhi e pensa all'Inghilterra Rannicchiata sul suo sedile Lei si gira per fissarlo Un chilometro dopo dice Vuoi sapere perché scopo con tutti gli altri e con te no? Nostromo le lancia un'occhiata incredula e divertita Forse perché a me non va di scopare con tutti gli altri? Chiede con aria innocente Lei ignora la sua battuta A volte gli altri sono gentili con me, sai? Mi regalano cose Mi mostrano cose Mi portano dove ci sono cose buone Tu invece mi fai venire la pelle d'oca Sei come la fottuta testa morta Vivi sempre dentro il tuo cervello E non esci quasi mai E quando vieni fuori sei una cosa che mette paura Hai vermi nel cervello o qualcosa del genere Non scoperei con te Neanche se tu fossi l'ultimo uomo sulla terra Beh, poco male Dice maligno il nostromo Non ne devono restare più tanti Sospira Forse un giorno Lei socchiude gli occhi E lui ride Superano l'altura Sull'altro versante Nostromo accosta l'auto E tira fuori la sua 45 semiautomatica Da sotto il sedile Toglie la sigura e spegne il motore Prende le chiavi Perché non si sognerebbe mai di lasciarle con lei Fa il giro dell'auto e apre la sua portiera Raccoglie il bambino E si volta verso il deserto La testa del bambino ciondola La sua bocca si apre e si chiude La sua unica manina gli stringe dolcemente i peli sull'avambraccio La bocca continua ad aprirsi e chiudersi Lui solleva il bambino con il braccio teso Appoggia la canna della pistola contro un occhio di plastica opaca E fa fuoco Capitolo 7 Mani Ricordo altre mani di altro cibo Che toccano e fanno andare via la fame Senza il bisogno di cibo Da lei una lei Io ricordo ma la fame senza lei Adesso la fame ancora ma le sue mani Capitolo 8 Merli preleva campioni di suolo della savana Deve stabilire se l'area riciclata sta filtrando in modo corretto attraverso tutti gli ambienti Sospetta che in certi punti ci siano ostruzioni Dieter se ne sta appoggiato contro un albero di mangrovia Le braccia conserte La gamba sinistra cavallata sulla destra Ehi Non dico che hai fatto la cosa sbagliata Sta dicendo Sto solo facendo l'avvocato del diavolo Voglio dire dal punto di vista di Bill tu hai violato l'integrità dell'ecosfera Hai rischiato un possibile contagio Hai esaurito scorte accuratamente Lei si alza con una paletta metallica in una mano e un sacchetto di plastica pieno di fanghiglia nell'altra Di volta le spalle e si sposta con passi che fanno squish e squash verso un altro settore di mangrovie Si china di nuovo e fruga nell'acqua stagnante Oltre alla loro breve relazione sessuale nei primi mesi di permanenza nella stazione Dieter e Merle hanno una cosa in comune Hanno collaborato entrambi alla progettazione di ambienti per il centro Epcot al Walt Disney World in Florida Con un contratto della craft Merle ha lavorato a un padiglione battezzato La Terra Dove venivano coltivati diversi raccolti in svariati modi sperimentali Inclusi l'idroponica e gli ambienti centrifughi a gravità alternata Dieter ha invece contribuito a rifornire di vita marina Inclusi squali e delfini Un oceano con quasi mezzo milione di litri d'acqua Battezzato i mari viventi E percorribile dai visitatori Merle si domanda come se la stia cavando il vecchio Disney World in questi giorni Il personale e gli ospiti hanno probabilmente lo stesso aspetto e gli stessi comportamenti di allora Toccata e fuga nella terra del futuro Un po' come per lei Adesso, una settimana dopo che la realtà è tornata rudemente a farsi viva nel loro piccolo mondo Merle sta cercando di troncare nel miglior modo possibile Date le circostanze di contiguità forzate Tutti i contatti con gli altri membri della squadra Ha dormito tutte le notti sotto una tenda nel deserto Ha mangiato solo cibo che lei stessa ha raccolto nel reparto agricolo e cucinato Non si presenta più agli esercizi matutini con Bill Ai consulti psichiatrici con Grace Alle riunioni settimanali antistress della squadra O ai rapporti operativi bisettimanali Riceve tutti gli aggiornamenti ambientali dal computer Quando è il suo turno? Di notte monta di guardia davanti ai monitor Un incarico divenuto molto più importante dopo quello che lei ormai definisce l'incidente del cibo Così adesso Dieter continua a ronzarle intorno Rivangando l'incidente con ridicoli discorsi accademici E lasciando che il frutto di quella sua masturbazione mentale ricada addosso a lei Merly vorrebbe rompergli la testa con la sua paletta da giardiniere Ma invece continua a lavorare e lo ignora Non è molto difficile Ripensandoci Merly si rende conto di aver già trascorso più di un anno Vivendo in solitudine insieme a quelle sette persone Per gli altri è la solita vita normale Normale quanto riescono a farla diventare Ed è veramente normale per loro A patto di considerare uno standard non anacronistico L'incidente del cibo è stato semplicemente una contingenza imprevista Hanno inserito i particolari relativi nelle loro banche date Nei programmi e nelle previsioni Hanno compensato e regolato le quote E per il resto continuano a comportarsi come se non fosse stato diverso Da uno dei tanti piccoli inconvenienti Che si devono affrontare per mantenere efficiente l'ecosfera Merly possiede più buonsenso Sa che loro affondano le testa nella sabbia Sa che un giorno o l'altro il mondo reale si presenterà alla porta E li prenderà a calci nel culo Ma sa anche che è più facile sopravvivere lì che all'esterno È dilaniata Sa con certezza che non vuole lasciare la stazione Ma non è sicura per quanto ancora riuscirà a sopportare quegli idioti Votati all'obbedienza cieca Lo stracismo volontario è il suo compromesso temporaneo Merly è in bilico È una banderuola meteorologica Pronta a plasmarsi nella direzione del vento Capitolo 9 Ancora Florida accende la torcia elettrica Nostromo osserva mentre le mani di Jojo Ingarbugliate nella maglietta È morto Jim Si tendono verso la luce Jojo avanza verso la torcia come il mostro di Frankenstein Florida spegne la torcia E Jojo si arresta Sembra confuso Attraverso la grata Nostromo allunga un manico di scopa Dal quale penzola un pezzo fresco di gatto Jojo lo agguanta E comincia a masticarlo Spago incluso Gli altri come se la cavano Florida alza le spalle Non così bene Jojo è ancora il più furbo Però possiamo farli muovere verso una luce Se poi diamo loro qualcosa da mangiare Sono tutti pronti a seguire dovunque un pezzo di carne Specialmente se vivo Adesso ogni volta che vedono una luce Si aspettano del cibo Ma Jojo è l'unico al quale possiamo far compiere qualcosa È riuscito ad aprire una porta un paio di volte Una testa morta L'atomo uccide Inciampa in una collega a quattro zampe La cui maglietta proclama che è stanca morta Nostromo scrolla il capo Che imbecille Florida annuisce Non capisco a cosa ci servirà tutto questo Hanno insegnato a dei piccioni a far funzionare macchine premendo pulsanti con il becco Le teste morte saranno pure intelligenti come piccioni Ci credo poco No, è vero Concorda il nostromo Sono come piante che si girano per seguire il sole Solo che seguono la carne viva Ma noi possiamo modificare questo impulso per indurli a seguire qualcosa d'altro Se poi li ricompensiamo con la carne Stimoli raggruppati e gratificazione posticipata Facevano la stessa cosa per convincere la gente a smettere di fumare Florida scoppia a ridere E si gratta un braccio muscoloso Psicologia per i morti Non hanno voluto dare da mangiare a un bambino Nostromo era una testa morta Loro non lo sapevano E allora che differenza fa? Oh amico Fottiti, va bene? Dietro la grata Terminato il suo pezzo di gatto Jojo guarda con il viso cianotico premuto contro le maglie d'acciaio Adesso accanto a lui ci sono gli altri Attirati dalla presenza di carne viva Si urtano e si accalcano con indifferenza Come tanti adolescenti davanti ai cancelli di un concerto rock Il gomito sollevato di una testa morta Animale notturno Colpisce con la tempia di una donna ossuta Che porta una maglietta con appiccicato un adesivo da paraurti Mangia la mia polvere Nostromo e Florida si girano il suono di una musica che si avvicina Focaccia ha uno stereo portatile grande come una valigia sulla spalla muscolosa E strombazza un nastro dei DMC a tutto volume In che modo Focaccia riesca a camminare e ballare al tempo stesso È un mistero per Nostromo I cui gusti musicali risalgono comunque ai Tangerine Dream e ai King Crimson Musica ordinata e tecnologica Roba da ragazzo bianco Gli occhi di Focaccia luccicano al chiarore del palazzo Che gli altri stanno bruciando nell'isolato di fronte Le sue iridi sono anelli scintillanti A specchio Cazzo! Sussurra Florida E allunga una mano verso la fondina Nostromo lo blocca con una mano sul gomito Florida lo guarda E Nostromo scrolla la testa Focaccia si ferma davanti a loro e posa lo stereo Danzando snodato Ho pensato che fossi diventato una testa morta Dice Florida con voce piatta Focaccia continua a ballare Cosa? La musica è maledettamente rumorosa Stavo per farti saltare quel tuo cervello da negraccio Urla Florida E perché? Florida e Nostromo si scambiano un'occhiata e scoppiano a ridere Oh scemo! Dice Florida scrollando il capo Ehi vi piacciono? Focaccia si indica gli occhi Mica male eh? Dove li hai trovati? Urla Nostromo Non lo so In un edificio Indica oltre la piazza dove il palazzo sta bruciando Scienze ottiche Dice Nostromo Già La canzone cambia Il ritmo no Con quelle lenti ti farai impiombare Cosa hai detto? Florida scuote la testa e si rivolge a Nostromo Non credo che gli altri saranno entusiasti di piombare addosso quel posto Nostromo C'è troppo poco da racimolare Nostromo nuisce Lo immaginavo già Devo dirti un'altra cosa Guarda Focaccia che continua imperterrito a danzare Pisellina pensa Beh Vuole che il gruppo si divida Capisci? E che alcuni dei ragazzi vadano con lei Non sei proprio il numero uno nella sua hit parade Se vuole andarsene faccia pure Sì ma Molti dei ragazzi andrebbero con lei Sai come stanno le cose? Ci sono ragazze in quella stazione nel deserto Davvero? Sentendo queste ultime parole Focaccia si illumina Ehi dici sul serio? Nostromo nuisce e comincia a riflettere Ma smette quando vede Florida che fissa il ricinto dello zoo Si gira a guardare Ehi GioGio! Focaccia indica e sogghigna Vai col ritmo fratello! Fanno suoni Io ricordo dalle scatole Mi facevano muovere Non verso come cibo Ma insieme E a volte con suoni Mi muovevo con lei Cristo santo! Mormora Nostromo Osservando GioGio che balla rigidamente Lui ricorda! Quella stessa notte Più tardi Jimmy vede Focaccia scendere i gradini del cibo Il circolo studentesco E gli fa saltare le cervella sul cemento del muro Ingegneria batte storia americana Camminava tutto storto e aveva gli occhi strani Spiega Nostromo Cosa cazzo dovevo pensare? Non chiederlo a me! E ribatte Nostromo Ormai certo che è tempo di muoversi Capitolo 10 Nella sala di controllo Leonard sta disegnando cerchi Su un blocco di fogli gialli a righe Li disegna altri due righe E uno dietro l'altro Un cerchio accanto a un altro cerchio Cerca di imparare a disegnare Un cerchio perfetto ogni volta Non smetterà finché non avrà imparato a disegnare Due file consecutive di cerchi perfetti Giunto alla fine di ogni fila Controlla gli schermi dei monitor Le telecamere sono disposte Tutti intorno alla stazione Insieme al sistema d'allarme Installato sulla fila più bassa Di pannelli di vetro Che circonda il perimetro Leonard non vede il camioncino Rider accostarsi con i fari spenti Alla base del pendio E fermarsi a diverse centinaia di metri Dall'estremità meridionale dell'ecosfera Non vede la portiera del guidatore Aprirsi e chiudersi Senza che la luce all'interno si accenda Nè il guidatore vestito di nero Che corre ad aprire il portellone posteriore Non vede il pifferaglio mascherato Che con il fascio di una torcia elettrica Guida un gruppo di figure barcollanti Verso l'ecosfera Leonard disegna una fila di cerchi Quasi perfetti E controlla il monitor Guarda direttamente il camioncino Rider nell'angolo inferiore sinistro Del monitor 5 Ma questo Immobile nel buio Sembra far parte del panorama spigoloso E lui Torna a disegnare cerchi Completa una fila perfetta Ed è a metà della seconda Quando scatta l'allarme Capitolo 11 Merli si sveglia al suono di un campanello lontano È buio nella tenda a due posti Esce dal sacco a pelo E supera i lembi dell'ingresso Le stelle scintillano nel cielo dell'Arizona Sopra la cupola di vetro Che ricopre il deserto costruito nel deserto Merli chiude la lampo del giaccone E cerca di riordinare i pensieri È l'allarme generale Qualcuno che era di guardia e monitor Deve averlo inserito Di guardia e monitor Una morsa gelida le stringe lo stomaco Prende la carabina dalla tenda E scende il pendio Agirando l'oas in miniatura E andando verso la palude L'acqua si sta già infiltrando Nelle sue riboc quando sente le urla Si ferma E l'acqua fredda le inzuppa i piedi Dai recinti degli animali Comincia a sguazzare verso la savana E il più vicino corridoio di accesso Il suono dei maiali che strilano terrorizzati Sveglia Grace La sua camera è accanto ai recinti degli animali Così lei indossa alla svelta una vestaglia E guarda dalla finestra C'è del movimento Ma è troppo buio per distinguere qualcosa Lascia la camera e scende di corsa il corridoio Inbocca la porta E supera i paletti dei fagioli Diretta verso i recinti Solo allora si accorge che suona l'allarme Si sta sporcando i piedi E c'è una corrente gelida che soffia dal frutteto Avrebbe dovuto pensare a infilare almeno le pantofole Ma no Se è successo qualcosa a bacon o a bracciola Si ferma La brezza proviene dal fondo del frutteto Dagli alberi di melo Nella penombra vede che dalla parete dietro i meli Mancano due pannelli di vetro triangolari Cosa può essere stato? Forse sono stati soltanto Spinti dentro Una differenza nella pressione d'aria esterna Magari O perfino un colpo di vento troppo forte Forse è stato questo A spaventare quei poveri porcellini Il suono dei vetri spezzati Lo strillare riprende facendola sobbalzare Si affretta verso il porcile scordando la corrente d'aria o i piedi sporchi Su su chiama mentre apre il cancelletto alto poco più di un metro È arrivata la mamma va tutto bene Trova l'interruttore della lampadina appesa sopra il porcile e lo fa scattare La mamma è... Bacon è addosso a un uomo L'uomo ha le braccia e le gambe avvinghiate attorno a Bacon Il maiale gli sta masticando una spalla La sua testa rotonda si scuote Lacerando carne e strappando tendini Accanto a loro c'è il corpo sventrato di prosciutto Grace rimane inorridita dell'accorgersi che prosciutto è ancora vivo La testa dell'uomo si solleva I feroci morsi di Bacon non sembrano infastidirlo Apre a sua volta la bocca e morde il maiale al collo La carne si lacera e il sangue zampilla Bacon strilla Che cosa sta facendo? Grace si dirige verso l'uomo senza neppure rendersi conto di ciò che sta facendo lei Si allontani subito da quel maiale! Bacon riesce a liberarsi Il sangue sgorga ritmicamente dal suo collo L'uomo si alza fra i maiali che grufolano agitati e si volta verso di lei La sua maglietta dei Grateful Dead è macchiata di sangue di maiale E dal cotone lacerato sulla spalla sporgono brandelli di carne e sangui Grace sta appena iniziando a capire di cosa si tratta Quando lui comincia ad avanzare nella sua direzione con gli occhi vacui e le braccia protese Lei fa un passo indietro No! No! Aspetti! I maiali grufolanti si strusciano contro i suoi polpacci Non può! Non è uno dei! Cade all'indietro sopra Cotenna Il maiale frenetico le calpesta lo stomaco Grace resta col fiato mozzato Qualcosa la tira per un piede Alza la testa La bocca di Hot Dog è intorno alla sua caviglia Lei tira indietro la gamba con uno strappo Il maiale emette un suono gutturale simile al ringhio di un cane Agli occhi spalancati e spenti alla luce dell'unica lampadina Grace si mette a sedere L'indruso si piega su di lei Le appoggia le mani sulle spalle Apre la bocca Brandelli di carne di porco penzolano dai denti verdastri Lei non trova il fiato per urlare Lo spinge via e cerca di rialzarsi Hot Dog le morde il polpaccio L'indruso si piega di nuovo La gamba le brucia Scalcia per liberarsi Hot Dog strilla e la morde ancora L'intruso abbassa il viso sul suo seno Campanelli che squillano e i maiali che strillano Lui stringe la dentatura Brucia Poi lui gira la testa Uno strappo Lei lo spinge via Qualcosa di umido le scalda le mani Brandelli di lei nella sua bocca Le sue dita lasciano tracce scure e viscide sul viso dell'intruso Nella sua bocca Lui morde Scricchiolio di ossa Lei tira indietro la mano Due dita scomparse La gamba intorpidita Perché ha così freddo? Pressioni vaghe Un suono lontano di masticazione Roventi lampi bianchi Mentre lui si nutre I maiali si nutrono La carne lacerata Strappata dall'osso I tendini tirati Morsi spezzati Come filamenti caldi Di formaggio fuso Che pulsa E pulsa E batte E rallenta E sfuma E sfuma Capitolo 12 Mary scende di corso Mary scende di corso al corridoio di accesso Con il suono molliccio delle scarpe inzuppate L'ecosfera è ancora tutta al buio Di notte non tengono accese le luci esterne Perché sarebbero visibili per chilometri Davanti alla porta isolante che conduce al reparto agricolo Esita Bang 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 E un rumore di vetro infranti Imbraccia la carabina E apre la porta Dieter si sveglia di soprassalto al suono dell'allarme Siede sul letto E guarda lo schermo lampeggiante del computer sulla sua scrivania Violazione Isolamento Si strofina gli occhi Lascia il letto E si vesta in fretta Si allaccia la cintura E apre l'armadio per prendere l'automatica calibro 45 nella fondina a spalla E' il fucile a pompa 3006 Che Dick gli ha consegnato il giorno dell'incidente del cibo E' a mezza strada su per le scale verso la sala di controllo Quando sente le urla da fuori Con un gesto secco del polso Fa scivolare la prima cartuccia nella camera di scoppio del fucile E si precipita nel corridoio Dove incontra Bonnie Avvolta nel suo kimono bianco Corrono insieme alla porta Quando escono le urla sono terminate Nessuno dei due ha una torcia Così restano un attimo immobili nel buio Per lasciare che gli occhi si abituino Bonnie indica nervosamente i recinti degli animali E si dirigono da quella parte Dieter in testa E Bonnie attaccata alle sue calcagna Cercando entrambi di muoversi in silenzio Ma facendo invece un sacco di rumore Giunti al basso recinto del porcile si fermano I maiali sono raggruppati e grufolano Dimenando i quarti posteriori Dieter scavalca il recinto E batte una mano contro il calcio del fucile I maiali si sparpagliano E Dieter si arresta di colpo Distesa davanti a lui c'è Grace Quasi del tutto spolpata E accucciato al suo fianco C'è un autentico carnitrofo in carne e ossa E il carnitrofo solleva il capo e apre la bocca Un brandello di carne gli penzola dal labbro superiore Poi si stacca e cade Dieter Bonny vomita Dieter punta il fucile e preme il grilletto Il grilletto non cede Il carnitrofo si sta alzando Per chissà quale ragione Dieter non pensa neppure a verificare la sicura Ma lascia cadere il fucile Ed estrae la 45 dalla fondina Il carnitrofo avanza uscillando verso di lui Calpestando con una scarpa logora i resti di Grace Dieter toglie la sicura e preme il grilletto La pallottola provoca un piccolo foro entrando E un foro molto più grosso uscendo dal torace del carnitrofo Il cadavere barcolla all'indietro sotto l'impatto Scivolando con i talloni su qualcosa di viscido a terra Poi riprende ad avanzare Dieter mira più alto e spara due volte La nuca del carnitrofo si dissolve in spruzzi E più indietro un pannello di vetro va in frantumi E il cadavere crolla all'indietro Sopra ciò che rimane di Grace Bill si sveglia di colpo Non appena sente squillare l'allarme Ha previsto qualcosa di simile ed è pronto Non riusciranno mai a cogliere il vecchio Bill Con i pantaloni abbassati Tira fuori una Smith & Wesson 44 Magnum da sotto il letto Agguanta la sua tuta marrone dalla spalliera della sedia Davanti alla scrivania Dove l'ha lasciata per poterla trovare anche al buio E l'indossa senza mai abbandonare la sua enorme pistola Va alla porta e solleva la pistola a fianco della testa Una luminosità rossastra bagna la sua scrivania Quando lo schermo del computer prende vita Violazione e isolamento Dice la scritta Poi si mette a lampeggiare Bill strizza le palpebre e si volta ancora verso la porta La spalanca di scatto e sbircia nel corridoio Nulla L'allarme continua a suonare Spicca un salto nel corridoio E atterra nella posizione del poliziotto pronto a fare fuoco Le gambe divaricate La pistola impugnata con entrambe le mani La schiena dritta Le braccia leggermente piegate Non per nulla Ha letto per anni mercenario Si gira rapidamente Il corridoio è sgombro Si raddrizza e procede verso le scale e la sala di controllo Leonard sta muovendo le telecamere come un matto Cercando dappertutto segni di movimento Quando Bill fa eruzione nella stanza Sobbalza Poi lascia di scatto la poltroncina Quando vede che Bill impugna la pistola più grossa Che abbia mai visto E gliela sta puntando dritta contro il petto Lancia un'occhiata ai monitor E Bill abbassa la pistola Hai suonato tu l'allarme Leonard scrolla il capo Un p-p-p-p-pannello rotto Nel frutteto Bill aggrotta la fronte Sempre fissando i monitor Un falso allarme Sembra deluso Leonard si stringe nelle spalle Bill si avvicina per vedere meglio Ferma la telecamera 5 Dice Leonard preme un pulsante sul quadro Bill si china fino ad avere il viso A una spanna dallo schermo Aumenta Vuoi dire l'ingrandimento o la p-p-p-panoramica? Bill lo fulmina con gli occhi L'ingrandimento Dice Leonard manipola i comandi Finché Bill non si trova a fissare il camioncino Rider fermo Nemmeno 300 metri dall'ambiente deserto Poi Bill si gira a fissare Leonard Solleva la pistola Leonard solleva le mani Come se volesse deviare le pallottole Da fuori Giungono detonazioni Bang 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 Capitolo 13 Aiffa nuota nuda nella fresca acqua tropicale Non sopporta di aprire gli occhi nell'acqua salata E così nuota la cieca Risalendo solo per respirare E poi scendendo di nuovo I suoi lunghi capelli fluttuano dietro di lei È una sirena Pronta a torturare le orecchie indifese di Ulisse Le piace nuotare dopo aver fatto l'amore Le piace pensare a Dick disteso svuotato sulla riva In attesa che la sua venere emerga Nuota oltre il cordone litorale e torna in superficie Fa un cenno di saluto verso la minuscola spiaggia Ma Dick non la vede perché è rivolto verso l'habitat della squadra a ovest E si sta grattando la testa Aiffa tira un profondo respiro e torna sotto In quel punto il fondale è a meno di sei metri Lei lo tocca con le mani Sbriciolando sabbia e limo con le mani A volte ha catturato casualmente qualche granchio laggiù O si è graffiata contro una roccia O è stata colta di sorpresa quando Qualcosa le striscia lungo una gamba Aiffa ha un brusco sussulto Ma naturalmente era solo un pesce Anche se per un istante le è sembrato Si sente afferrare una caviglia La stretta è salda e fredda Lei ruota su se stessa e apre gli occhi L'acqua salata brucia Acqua scura Allunga le mani Le dita scostano la nube dei suoi capelli Prova a scalciare ma non colpisce nulla L'altra gamba è imprigionata Prova una giravolta carpiata Per liberarsi da ciò che la trattiene Qualcosa con appendici separate Sembra una mano ma eredì Un dolore lancinante Quando qualcosa le taglia all'esterno del piede Il suo urlo fugge con le bolle d'aria Sale in superficie e scoppia Senza il minimo rumore Aiffa si raggommitola E cerca di afferrarsi il piede Le sue mani incontrano qualcosa di rotondo Con capelli Una testa Ma non può essere una testa Non la sotto Le sue mani ne tastano i contorni Mentre il piede le pulsa nell'acqua fredda Le dita toccano carne fredda E due occhi aperti Dopo il suo urlo seguente C'è un breve ansito E quello contiene acqua Lei tenta di controllarsi Acqua salata in gola Tossisce Quel poco d'aria che le restava risale a bolle I polmoni cominciano a dolerle Il piede pulsa Si sente tirare ancora per la gamba Due mezze lune dure premono sulla sua coscia E premono sempre più forte Nel dolore improvviso della carne che viene lacerata Si ritrova con un ciuffo di capelli in una mano Adesso si dibatte Cerca di urlare ma non riesce a farlo La sua bocca si muove per invocare aiuto Ma il mondo si trova oltre un velo d'acqua Che lei non può superare L'unico suono è il battito del suo cuore Il braccio mulinante che ancora stringe la ciocca di capelli Viene afferrato, tirato La bocca di Haifa si contorcia in modo orribile Mentre il muscolo della sua spalla viene maciullato e strappato L'oscurità nei suoi occhi si tinge di un rosso maculato Un suono si accugula dentro le sue orecchie Lo squillo continuo di uno lontano campanello subacqueo Dentro il suo cervello una soglia viene superata La linea di resistenza oltre la quale l'istinto di respirare Sconfigge la coscienza che non c'è aria di respirare Lei inala I suoi polmoni si riempiono di acqua Un'ondata di sollievo si fa strada in mezzo al suo dolore Il gelo acquieta il fuoco che le divora il petto Qualcosa si lacera dentro di lei I squilli crescono Il battito del suo cuore si attenua Davanti ai suoi occhi solo un manto di merletto rosso Il dolore risale lungo la sua spalla Mentre viene attirata in un gerido abbraccio Viene stretta come un amante Baciata con grande passione Consumata mentre intorno a lei L'acqua diventa più calda Dick si alza sulla spiaggia al suono degli spari Bang, bang, bang Sembrano colpi di pistola Si toglie la sabbia dalle natiche Si volta verso il reparto agricolo Apre la bocca per migliorare le sue capacità auditive Ma non c'è più nulla da sentire Non vede la mano che si solleva dall'acqua alle sue spalle Oscilla in un saluto frenetico e riaffonda Raccoglie i suoi jeans Li scrolla e comincia a infilarli Aifa! Chiama! Aifa! Scrutala distesa d'acqua Cercando di vedere nel buio L'oceano grande come una piscina olimpionica e tranquillo È sotto da parecchio tempo ormai Probabilmente ha superato il cordone litorale Ma dovrebbe riuscire a sentirlo Dick vorrebbe scoprire cos'è stata quella sparatoria Ma prima vuole assicurarsi che Aifa stia bene Cammina fino al termine della spiaggia E costeggia l'oceano verso ovest Dove inizia la savana Aifa! Probabilmente qualcuno ne ha avuto finalmente abbastanza Del vecchio Billy E gli ha fatto saltare le cervella O magari quell'idiota si è impiombato da solo Visto come maneggia le armi Quel dannato imbecille sarebbe riuscito a combinare un ingorgo In una strada a senso unico Con un funerale di due macchine C'erano stati tre colpi però Aifa! Beh Magari con la testa che si ritrovava Ci sarebbero voluti tre colpi Per riuscire a beccargli il cervello A quel dannato figlio di Qualcosa nell'acqua laggiù Però non era grande abbastanza per essere Aifa Ma cosa diavolo poteva essere? Un alligatore? Merda! Adesso al suo fianco c'era un'altra forma Qualcosa di più piccolo Oh! Avevo dimenticato di dirtelo amico La voce di Dieter nella sua testa Ho messo un piccolo squalotigre nell'oceano Rifornimento completo Capisci? Lo spazzino degli abissi, no? Uno sciacquio mentre qualcosa emerge dall'acqua Aifa! Il qualcosa raggiunge l'oggetto più piccolo nell'acqua Lo afferra, lo solleva Lo avvicina a sé Adesso si dirige verso di lui Prende forma nell'oscurità Una figura grondante Una donna Non è Aifa Allontana l'oggetto dalla testa Lo lascia penzolare al suo fianco Dal contorno lui vede che l'oggetto è una gamba Dal piede l'estremità sfilacciata del ginocchio Strappata di netto Dick scatta di corsa verso la spiaggia Quel cazzo di pistola è sull'asciugamano Sguazza nel terreno fangoso Stantuffa sulla sabbia umida e morbida Diretto verso il riquadro nero sulla spiaggia Sì La pistola è là Una smite Wesson batte un poker da sì Gli diceva suo padre Su questo puoi contarci Bill gli aveva chiesto di restituire le armi Certo che puoi Certo che puoi riavere questa pistola L'aveva ribattuto lui E adesso lo ripete Prendimela Ed è tua Si asciuga le mani sui jeans E impugna saldamente la pistola Aspetta sulla sabbia Mentre la figura incespica sulla spiaggia Recupera l'equilibrio E annaspa verso di lui Un carnitrofo Cosa cazzo significava quella parola? Una pianta è fototrofa Fototrofa Aveva spiegato Bill Cioè si volta verso la luce del sole Che costituisce la sua fonte di energia Una reazione biochimica Stimolo e risposta Ding! E il cane comincia a sbavare in attesa del pasto E carni Stava per comunissima carne Merda! Solleva la pistola E arma il percussore Carnitrofo è un cazzo Possono anche chiamarlo in quel modo Se così si sentono più sicuri Ma sua madre non ha levato un imbecille Mira lungo la canna da sei pollici L'unica parte del loro cervello ancora funzionante È il rombencefalo La regione più antica È il cosiddetto nucleorelitre Il cosiddetto nucleorettilico Aveva spiegato loro Merli Quasi tenesse una conferenza Sono come serpenti che possono aspettare tutto il giorno in un posto Finché qualcosa non si fa avanti Il nucleo R consente ai carnitrofi di muoversi E l'unica ragione che li spinge a muoversi È quella di procurarsi carne viva Quella puttana con gli occhi a mandorla Lui poteva anche essere un fottuto custode passato di grado Ma lei chi si credeva di essere per... E spara La figura barcola all'indietro e lascia cadere la gamba sulla sabbia Poi, poi torna a farsi avanti Isolate il nucleo R Con la decapitazione o una massiccia distruzione neurale Aveva continuato Merli E il tropismo verrà rimosso In quei ricordi Bill sorride In altre parole Spiega alle masse Fate loro saltare le cervelle E incontreranno un grave problema di motivazione Ti faccio saltare quel tuo fottuto cervello Anzi, ma Dick Arma il percussore E spara di nuovo Un'improvvisa increspatura luccica sopra l'occhio sinistro della creatura Riesce a fare altri due passi Si ferma Solleva una mano come incuriosita Le dita si chiudono nel palmo La mano si abbassa Un altro passo Il ginocchio anteriore cede E la creatura crolla sulla sabbia Dick la tiene sotto mira per qualche altro secondo Poi si avvicina cautamente Sì E è crepata sul serio C'è una scritta sulla sua maglietta fradicia La vita è una puttana E poi muori E sotto Scritto in maniera differente Poi Torni Torni indietro Capezzoli sotto il cotone Capezzoli sotto il cotone inzuppato Cucu Dick solleva lo sguardo sul piccolo oceano Un piccolo tronco Spinto dall'eterno vento del nord Va alla deriva verso il cortone litorale Crac Altri spari Un fucile questa volta Sarà meglio che lui Bianco re rovente accecante Gesù che cazzo Cade sulle ginocchia Sente caldo alla pancia Qualcuno gli ha conficcato un saldatore roventato nel petto Si guarda le ginocchia Macchie umide scure sui jeans Che schifo Queste macchie fottute quando camminerò Quella che ti becca non la senti mai Balla fottuta L'ho sentita benissimo Oh merda Cerca di rialzarsi Ma dentro qualcosa si arresta con un brivido Capitolo 14 Nostromo abbassa il suo ingram 9 mm L'uomo che ha appena colpito Inarca la schiena Ed è scosso da spasmi Dio come odia questa scena Come se tutti i nervi urlassero insieme Gli fa venire la pelle d'oca Si allontana dalla spiaggia Invisibile nei jeans e nel maglione nero Si sposta rapido da un albero all'altro Muovendosi dalle palme verso il fogliame fitto della foresta pluviale All'estremità a nord della vegetazione Incontra pannelli di vetro inclinati Estrae una scatoletta dal suo zaino di nylon La incastra fra due battenti di alluminio E inserisce su ricezione Un piccolo interfono senza fili della radio shack Poi si affretta verso la parte ovest Dove piazza un'altra scatoletta E collega un altro interfono Fa una pausa la porta isolante del corridoio di accesso Che conduce di nuovo al reparto agricolo Dove lui ha fatto eruzione dieci minuti prima All'esterno del settore alloggi Sono accese lampade ad arco Che illuminano ogni riquadro di coltivazioni Entrare là dentro non sarà così facile Lo sguardo di Bill passa dal carnitrofo steso Fra i resti di Grace Ai pannelli mancanti in fondo al frutteto Va bene adesso cerchiamo di non arrivare a conclusioni affrettate Può darsi che qualcuno si sia introdotto qui Per rubare i maiali E che Grace lo abbia scoperto Certo Dice Leonard Ha noleggiato un camioncino rider E ha guidato fin qui Per vedere se poteva c-c-c-comprare un tramezzino con bacon, lattuga e pomodoro Si passa una mano tremante sulla bocca Bill strizza gli occhi Quello la stava mangiando Dice Bonnie con voce piatta Sembra stranamente calma Come se la morte di Grace sotto i denti di un cadavere rianimato Fosse solo un altro fattore da inserire Fra i molti evidenti eventi banali Che si accumulavano durante il normale funzionamento dell'ecosfera D'accordo Grace è morta Adesso si dovranno modificare i turni di lavoro Si dovrà tenere conto dell'improvviso surplus di un ottavo di cibo e di acqua E naturalmente Si dovrà nominare un altro moderatore per i loro incontri settimanali antistress Per non parlare di chi adesso dovrà badare ai maiali rimasti Bill, Dieter e Leonard La guardano con occhi gelidi Come se la sua indifferenza verso la morte di Grace Risultasse più repellente del fatto e del modo in cui Grace è morta C'è qualcosa di alieno nel suo atteggiamento Se solo cadesse in preda a una crisi isterica Loro capirebbero E' in questo modo che le donne dovrebbero comportarsi davanti a un evento simile Sono state condizionate dalla società Non possono farne a meno Quindi perché Bon non si mette a piangere e non la fa finita? Immagino che non si possa escludere l'eventualità che ce ne siano altri in giro Dice Dieter Bill annuisce Qualcuno li ha fatti entrare deliberatamente Un'infiltrazione Che, 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 chi? Chiede Leonard Dieter incrocia le braccia e fa il gesto di cullare avanti e indietro Cantichiando a bocca chiusa Dormi bel bambino Bill aggrotta la fronte Inclina il capo Lentamente Dovremmo restare insieme, dice. Non voglio. Bang! Le loro teste sul sultano. Bang! La spiaggia, dice Leonard. Di che haifa, dice Dieter. Bill brandisce la sua pistola. Leonard, tu vieni con me. Dieter, rimani con Bonnie. Bill trotterella via senza aspettare Leonard, con la pistola ad aprirgli la strada. Crack! Una detonazione diversa dalla spiaggia. Bill si ferma. Si guarda indietro. Leonard! Leonard deglutisce e corre dietro a Bill, reggendo il suo fucile davanti a sé come uno scudo nel quale non nutre molta fiducia. Capitolo 15 Merli è nel corridoio di accesso meridionale e cerca di decidere cosa fare. Prima tre spari dal reparto agricolo a nord-ovest e adesso altri tre dalla spiaggia. Che direzione prendere? Beh, presumendo che siano le stesse persone a sparare, dovrebbe dirigersi verso gli spari più recenti. Stringe saldamente la carabina e torna indietro. Non voglio aspettare qui. Dieter guarda Bonnie come se solo adesso rammentasse la sua presenza. Dobbiamo aspettare finché non scopriranno cosa sta succedendo. Io non voglio aspettare qui. Bonnie lancia un'occhiata verso il porcile, ai corpi dei due maiali, del carnitrofo e di Grace. Gli altri maiali grufolano e strillano nervosi, si urtano e calpestano i cadaveri. A volte si fermano ad annusare quelli più freschi e sollevano i grugni con i nasi tinti di rosso. Dieter va al porcile e picchia sul recinto basso per calmare i maiali, ma logicamente quelli strillano più forte. Adesso li lascio liberi, decide lui. Bonnie non dice nulla e Dieter apre il cancelletto di legno. I maiali non si affrettano ad uscire, così Dieter entra nel porcile e li spinge fuori. Io vado dentro, dice Bonnie, nella mia stanza, finché questa storia non sarà finita. Ehi, non puoi farlo, hai sentito cosa ha detto Bill? Lui non ha nessuna autorità su di me. Qui non ci sono gradi, non mi sarei mai offerta volontaria se ce ne fossero stati. Quello stronzo maschilista può andare a farsi fottere. Ma io mi riferisco agli zon... ai carnitrofi. Dieter esce dal porcile e insieme si dirigono verso l'ingresso degli alloggi. Probabilmente ce ne sono altri nella stazione. E qualcuno li ha fatti entrare. Tu non è nemmeno una pistola. Odio queste cose. Sono armi maschili, estensioni della sessualità maschile. Se non puoi violentare qualcosa, puoi sempre sistemarla. Dieter dedica un istante di riflessione all'idea di sterminare Bonnie, ma nemmeno mezzo a quella di stuprarla. Vado in camera mia, continua Bonnie, e mi chiuderò a chiave. Là nessuno mi darà fastidio. Non ho intenzione di prendere parte al vostro sfoggio a distinti predatori primitivi. Sono una persona civile, rifiuto di collaborare. Sei una fottuta testa di merda, dice Dieter. E sai una cosa? Uso il termine merda perché non è sciovinistico. La vostra è uguale alla nostra, sai? Bonnie apre la porta del settore alloggi ed entra. Dieter scrolla il capo. Spiana l'estensione calibro 30.06 della sua sessualità maschile e sorveglia l'aria illuminata dalle lampade ad arco. Vorrebbe avere una sigaretta. Il primo desiderio di quel genere che prova da un sacco di tempo. O uno spinello. Entrando nell'ecosfera hanno dovuto rinunciare al tabacco e l'idea di contrabandare semi di marijuana era fuori questione. Anche se Merli sosteneva che sarebbe cresciuta meraviglia nell'ambiente tropicale. Rimane rigidamente al suo posto, facendo ruotare solo gli occhi e cercando di assumere un'espressione dura. Dieter, il colono marziano che monta di guardia dentro la solitaria isola di vetro, l'unica barriera fra la salvezza e gli invasori morti viventi, che minacciano a loro stessa. Qualcosa gli preme contro la schiena. Non muoverti! La voce è soffocata, come se la gola della quale proviene fosse stretta da qualcosa. Comunque abbozza all'ombra di un movimento, poi si ferma. Molla il fucile! Subito! Abbassa il fucile. Lo mostra di lato con il braccio teso. Lo lascia cadere. Il tonfo sordo di una pistola di grosso calibro da un punto nelle vicinanze dell'oceano. Qualcuno lo prende per una spalla. Da questa parte! Dentro! Dieter tenta di camminare normalmente. Se solo ci fosse una porta aperta, un angolo dietro cui gettarsi. Tieni le mani in alto! Ho un fucile semi-automatico e non riusciresti a fare tre passi senza sembrare Warren Betty alla fine di Gangster Story. Dieter non può fare a meno di tentare di girarsi. Gangster Story! Un colpo nelle reni. Muoviti, stronzo! Dove andiamo? Nella stanza dei generatori. Delle batterie o come cazzo voi altri la chiamate. Non so come... Non mi interessa quello che non sai! Portami là! Tenta qualche scherzo e ti ammazzo. E ti sparerò al cuore. Così dopo tornerai indietro come i miei amici là fuori. Dieter prova a immaginarsi ridotto a un automa. Barcollante, la bocca aperta, le mani protese, gli occhi appannati. Atratto dalla carne dei vivi. Voltando a sinistra verso la stanza dei generatori, si domanda se per lui il mondo sarebbe veramente così diverso. Capitolo 16 E Dick lo ha ucciso. Il carnitrofo lo ha ucciso. Bill tocca con la punta di un piede il corpo prono di Dick, che cede mollemente. C'è un piccolo foro, quasi privo di sangue intorno, fra le scapole. Bill si china e gira il corpo. Il busto fa un mezzo giro, ma le gambe rimangono con le ginocchia nella sabbia. E il corpo sembra snodato alla vita. È così che si capisce che uno è morto, pensa Leonard. Non gli importa più la posizione che assume. Bill fa rotolare anche la parte inferiore del corpo di Dick. Senso del decoro. Poi si acquatta vicino all'ampio torace di Dick. C'è un foro di uscita più largo, più slabbrato, esattamente nel flesso solare. Qualcuno gli ha sparato alle spalle, dice Bill. Leonard si guarda intorno. Sono piuttosto esposti, lì sulla spiaggia. Qualcosa galleggia contro il cordone litorale nell'acqua. Un cecchino appostato laggiù, prono nell'acqua. Troppo lontano, troppo buio per stabilirlo. Non sarebbe meglio metterci al riparo? Chiede. Chiunque gli abbia sparato non è rimasto certo dov'era. Bill si alza e si avvicina al cadavere del carnitrofo. Muoversi in continuazione su tutto il terreno. Manovra tattica. Vantaggio offensivo. Cerca e distruggi. Dividi e conquista. Leonard si ferma al suo fianco. Ne ha portato uno con sé, commenta Bill. Non possono vedere il corpo di Dick che si agita dietro di loro. Gli è servito a molto, ribatte Leonard. Non lo sentono rialzarsi e cominciare la sua lenta avanzata. Leonard si mantiene a rispettosa distanza dalla morbosa X formata dal corpo del carnitrofo. Allora, cosa facciamo adesso? Bill non risponderà mai. Perché Leonard si sente afferrare per una spalla. Si gira e si trova faccia a faccia con Dick. Da principio è sollevato. Hanno commesso un errore e dopo tutto Dick non è m-m-m-morto. Ma la realtà di ciò che vede gli fa cambiare subito idea. Dick ha gli occhi fissi e il viso molle, inespressivo. Ha il mento sporco di sangue raggrumato. Sul lato destro del viso c'è della sabbia che gli arriva fino all'occhio. Leonard nota alcuni granelli contro la pupilla. Ma Dick non sbatte le palpebre. Non respira. Non ha una sola scintilla di vita negli occhi. Le sue dita di ghiaccio si stringono intorno alla spalla di Leonard tirando. Cosa vuoi dire, Dick? Cosa stai cercando di raccontarmi? N-n-n-niente. La sua bocca si apre. Bill sta urlando qualcosa. Ma Leonard è così affascinato dalla vista di Dick tornato dal regno dei morti come un Gesù razzista e bigotto del profondo sud che proprio non sente le parole di Bill. Dick il risorto lo attira più vicino. E Leonard sa che dovrebbe fare qualcosa ma può soltanto starsene a guardare. Il fucile è un pezzo di legno fra le sue mani. Carne della mia carne, vecchio mio. E' questo che Dick direbbe se i lobi anteriori del suo cervello funzionassero ancora. Devi essere battezzato subito. Devi ricevere la fede. Lo Spirito Santo deve entrare in te. Cristo maledetto dunque crede in me non perirà ma vivrà in eterno nella casa degli annoiati. Ma Dick il salvatore si ferma. Fissa Leonard con una specie di mestizia bocca aperta. Con un'espressione di desiderio frustrato come quella di un bambino cui sono stati negati fiocchi d'avena zuccherati durante una visita dal droghiere con la mamma. La mano è ancora sulla sua spalla ma non la stringe più con bisogno famelico. Non la tira verso di sé con urgenza implorante. Negli occhi spenti si insinua un'espressione quasi canina, interrogativa. Leonard prova una specie di delusione. Sente l'impulso improvviso di ragionare con Dick, morto o no, e di chiedergli «Cosa diavolo sta succedendo qui, vecchio mio? Ha intenzione di mangiarmi oppure no?» Ma la canna nera, incredibilmente lunga, di una pistola, fa il suo ingresso sulla scena e sfiora dolcemente la tempia di Dick. Leonard vede la mano stretta intorno al calcio, l'indice con l'unghia rosicchiata curvo intorno al grilletto, il percussore armato. Bill, giunto in suo soccorso. Bill che ogni notte sogna cani idrofobi, cavalli con gambe spezzate, soldati feriti mortalmente in un plotone inseguito da forze nemiche. Se abbatti di persona il tuo cane dai prova di fegato. Dare il colpo di grazia a qualcuno è anche una dimostrazione della tua umanità. Da quanto tempo Bill desidera dare il colpo di grazia a qualcuno? Una risurrezione innaturale e sacrilega e separa Dick dalla sua ricompensa celeste. Bill, in qualità di agente di Dio, libererà il suo spirito. Il dito preme a fondo il grilletto. Il percussore scende. La pallottola vola. Il ripostiglio dell'essenza di Dick finisce spruzzato sulla sabbia. Padre, perdona loro. Merly torna a nascondersi dietro l'albero. Cristo santo, lo hanno ucciso. Hanno sparato a Dick. No, no, rifletti. Raduna i pensieri. Dick era già morto. D'accordo. Allora forse Bill e Leonard sapevano cosa stava succedendo nella stazione. Cosa significava tutta quella follia. Sudando nella fasulla notte subtropicale, lascia il riparo del tronco, abbassa il suo fucile e agita un braccio. Ehi, chiama. Bill compie un mezzo giro e spara. La 44 magna umà il rombo di un cannone. Merly sente la pallottola piantarsi in un ramo dietro di lei. Una scheggia le colpisce il braccio. Si getta a terra, rotola di lato e si ritrova distesa con il calcio della carabina contro la spalla destra e l'occhio sinistro che prende la mira. Sono Merly, grida. Butta la pistola! Merly! Bill si dirige verso di lei. Butta la pistola o Dick ti terrà aperta la porta dopo essere entrato! Lui esita, forse riflettendo sulla seconda parte del messaggio di Merly, ma lascia cadere la pistola. Con la mano sinistra si massaggia il polso. Anche tu, Leonard. Ascolta, Merly, ci sono altre di queste creature qui intorno. Non penso che sia una buona idea. Lei preme il grilletto. Il fucile non ha tanto rinculo come lei temeva. Uno sbuffo di sabbia si innalza dietro la gamba destra di Leonard e lui getta il fucile. Merly si rialza e scende verso di loro. Allora, cosa diavolo sta succedendo? Domanda mentre si avvicina. Qualcuno è penetrato nella stazione, dice Leonard dalla spiaggia. Infiltrazione, aggiunge Bill. Carnitrofi come diversivo. Dietro le linee nemiche. Liberati i lupi mannari nel limbo. Incursione tattica. Colpisci e fuggi. Forza di fuoco scelta per guerriglia multambientale. Postazioni strategiche. Squadra allerta. Ha il fiato corto. Il suo polso destro si sta gonfiando. Merly guarda Leonard, che si stringe nelle spalle e sembra momentaneamente preoccupato. Bill, sembra indicare con il suo gesto, sta giocando a poker con un mazzo da pinnacolo. Grace è morta, dice Leonard. E Merly sente qualcosa che possiede molte lame schiudersi nel suo petto. Non perché tenga in modo particolare a Grace, siamo onesti, ma perché il loro gruppo ermetico risulta in questo modo irrimediabilmente ridotto. Nel sistema è stato introdotto un cambiamento. Da questo sasso nello stagno si propagheranno cerchi portentosi. Era proprio ora. Indica i cadaveri sulla sabbia dietro Leonard. Uno di loro? Lui annuisce. Anche... Haifa, pensiamo. Ho visto cosa è successo con Dick. Perché si è fermato? Ti aveva portata di denti, ma si è fermato. Perché io l'ho liberato, ribatte Bill. L'ho tolto dal suo limbo, perché gli ho fatto saltare quel suo maledetto cervello. Perché ha smesso di aggredirti prima che Bill gli sparasse? Merly rivolge seccamente la sua domanda a Leonard, che si stringe nelle spalle. Non lo so. Un attimo prima lo aveva addosso e l'attimo dopo era come se avesse fiutato carne marcia o qualcosa. Si interrompe. Merly aggrotta la fronte. C-c-c-carne marcia, dice Leonard. Oh mio Dio, è stato questo, gli scarti del branco. Informazione cellulare, fissa Merly. Cristo santo, è stato questo! Il suo balbettio è notevolmente diminuito. È una pistola davvero eccellente, devo ammetterlo, dice Bill. Merly lo ignora. È incerta sul da farsi. Adesso sembra che anche Leonard stia dando i numeri. Morbo di Hobkin, dice Leonard, e si batte sul petto. Per un attimo Merly pensa che sia un altro non sequitur, poi comprende. Figlio di puttana, dice. Non ci hai mai detto! E le luci si spengono in tutta l'ecosfera. Capitolo 17 Bonny siede sul letto nella posizione dell'otto. Usa la litania come una specie di amuleto per allontanare tutta la feccia karmica che stanotte deve essersi accumulata intorno a lei. Sta appena iniziando a rilassarsi, quando le luci si spengono. Lei rimane seduta al buio per qualche istante, in attesa che i suoi occhi si abituino. In lontananza sente un debole crepitio di popcorn scopiettante. Discute con se stessa se restare nella sua camera, a farla decidere la consapevolezza che probabilmente il ricambio d'aria non funziona, se l'energia è venuta a mancare. Meglio andare fuori. Ma fuori. Gli uomini si staranno dando la caccia a vicenda e probabilmente Merly starà partecipando ai loro giochi di guerra ad adolescenti. Fuori. No. Meglio aspettare che passi. Di sicuro ci sono dei carnitrofi là fuori, i cadaveri rianimati, ma Bonnie non prova nessun timore superstizioso nei loro riguardi. Non hanno chiesto loro di essere quel che sono. E quel che sono non è poi così diverso dalle piante. Piante affamate. Piante dotate di mobilità. Ma pur sempre piante. E Bonnie prova un'affinità con le piante. Di sicuro non si sente minacciata da esse, così come non si sente minacciata dai carnitrofi. Si poteva batterli in velocità, in astuzia, in qualsiasi campo. Bonnie fruga nel suo armadietto modulare fino a trovare una minuscola torcia elettrica Tecna. Ruota la guarnizione zigrinata intorno alla lente e la luce si accende. Sposta il cerchio luminoso nella stanza e la scena le ricorda un germe sotto un microscopio. La luce è l'unica arma di cui ha bisogno. Punta il cerchio di luce sulla porta e si avvia in quella direzione. E qui. Dieter apre la porta della stanza dei generatori e fa per entrare. Resta dove sei, accendi la luce. Non posso restare dove sono e accendere la luce. Accendi la luce, stronzo! Dieter allunga un braccio nella stanza e accende la luce. Avanza con piccoli passi, spinto da dietro. La porta viene chiusa alle sue spalle. Si volta a guardare per la prima volta l'uomo che lo ha catturato e non è stupito di riconoscere il giovanotto dai capelli lunghi che è venuto a lemosinare cibo la settimana prima. È stato solo la settimana prima? Non è sicuro di quanto tempo sia passato. Il tempo vola. Sì, sono io! Dice il giovanotto. Resta dove sei. Intreccia le dita e metti le mani sopra la testa. Stiamo giocando alle sciarade e tu sei una sequoia, capito? Dieter non capisce. Ma annuisce lo stesso e fa come gli è stato detto. L'uomo gli tiene puntato addosso un fucile mitragliatore mentre si toglie lo zaino di nylon. Si china e lo apre, sempre tenendolo sotto mira. Poi tira fuori un oggetto dalle dimensioni di una scatola di mattite colorate. È verde oliva e ricurvo come una fiaschetta da tasca. Su un fianco, a lettere in rilievo, è scritto Lato verso il nemico. L'uomo porta lo zaino e la scatola verso il quadro comandi dei convertitori elettrici, gli interruttori automatici, i controlli dei generatori, i voltimetri, i regolatori e le file sovrapposte di batterie e di accumulatori. Posa la scatola faccia in giù sul quadro comandi, tira fuori una scatoletta bianca con pulsanti quadrati che assomigliano a radio portatile. La collega la scatola ricurva e regola un territorio a tempo. Posa un'altra scatola ricurva contro la fila di batterie. Bella baracca avete qui, dice con tono quasi cordiale mentre lavora. Tutte le comodità di casa, aria condizionata, temperatura controllata, MTV. Che cosa vuoi da noi? chiede Dieter. Niente. Lui lo guarda. Sul serio? Alza le spalle. Un tempo volevo un paio di hamburger, ma dopo tutto oggi la vita nelle grandi città è fatta così, no? Senti amico, io volevo darti del cibo. Agli altri l'ho detto che dovevamo farlo, che era la cosa giusta da fare, ma non hanno voluto. L'uomo li facendo di tacere. Acqua passata. Che il passato seppellisca i suoi morti, dico sempre io. Indica la fila di interruttori automatici. L'interruttore generale? Dieter alza le spalle. Sono un biologo marino. Solo un soldatino che obbedisce agli ordini, eh? Dieter non dice nulla. L'uomo si alza e va agli interruttori. Abbassa il primo, non succede nulla. Ne abbassa un altro, nulla. Un altro. Ci siamo. Stanno facendo scattare qualcosa da qualche parte. E continuano ad abbassare interruttori. Le luci si spengono. E Dieter fa la sua mossa. Nostromo aspetta finché non sente scattare la serratura e la porta che viene aperta. Allora spara una raffica in automatico, facendo compiere la canna a un breve arco. Il caricatore è vuoto in pochi secondi. Sgancia quello vuoto, lo lascia cadere, ne prende uno carico dalla tasca posteriore e lo infila. Poi si china e brancola fino a trovare lo zaino. Trova la torcia a stilo e l'accende. Poi l'attacca sotto la canna dell'ingram con del nastro isolante ed esamina l'interno della stanza. Il corpo tiene aperta la porta. Su entrambi i lati della soglia ci sono fuori di proiettili in una leggera diagonale. Nostromo si rimette lo zaino in spalla e scavalca il corpo. Che razza di imbecille, dice. Abbassa il fascio di luce. Tutti colpi alla schiena, un bel grappolo. Fra poco non conteranno molto, ma che importa. È la festa di Nostromo. Più invitati, più allegria. Schermando con una mano la torcia, esce nel corridoio e comincia a percorrerlo. Bill non spreca un secondo. Sa dove è la sua pistola e quando le luci si spengono, lui si china, la raccoglie e corre via. Non gli serve la luce per trovare la strada. Cinestesia acuta, senso notturno. Programmato per registrare il movimento. Sotto assedio, cavallo di Troia. Merly e Leonard lo chiamano, ma lui continua a correre. Il nemico è là fuori, nella macchia, nel deserto, nella palude, nei campi, nello stesso cortile di casa. Occorre schierarsi. Occorre andare in ricognizione. Colpisci e rotola. Colpisci e fuggi. Raggiunge facilmente la porta isolante e percorre il corridoio di accesso in direzione ovest. Sbuca in aria più fresca e fra le coltivazioni. Là fuori, in attesa. Passi, che corrono verso di lui. Un respiro, dal basso, da terra. Strisciano quei perfidi figli di puttana. Una figura pallida avanza a quattro zampe. Lui alza la magnum e spara. Il dolore gli azzanna al polso slogato. Merda, che male! Bisogna essere duri, figliolo. Senza dolore non c'è onore. Uno strillo, un respiro ansimante. Una forma massiccia che scalcia nell'aria davanti a lui. Un maledetto maiale, Cristo santo. Con il polso che urla, procede furtivo nel campo di Gran Turco. Là, laggiù, due di quegli stronzi fottuti. Zip! Zip! Come se fossero già morti. Ma sono già morti! Ah! Meglio sbrigarsi. Procede furtivo. Gli restano tre colpi. Vediamo. Uno che ha liberato Dick. Uno che ha mancato Merli. E uno per preparare il bacon. Sì, ne restano tre. Adesso stanno avanzando verso di lui. Stupidi bastardi. Non hanno nemmeno tanto cervello da nascondersi. Non si può cogliere di sorpresa una strafottuta pallottola. Cammina sicuro fino al più vicino. Quello afferra la canna. Di buonanotte, tesoro, dice lui. E preme il grilletto. Ma quel figlio di puttana ha agguantato anche il retro della pistola. E il percussore non può sollevarsi. Bilda uno strattone alla pistola e la creatura si accontenta di assecondare lo strappo. L'altro è piuttosto vicino adesso. Bill gli punta un piede contro lo stomaco e spinge. La pistola è libera. Bill fa un passo indietro. Troppo vicino per perdere tempo a mirare. La testa è un bersaglio difficile. Posizione regolamentare. La canna allineata. Premi. Boom! E lo stronzo viene scagliato indietro come se Dio in persona gli avesse mollato un calcio. Al lampo dello sparo la maglietta dice salviamo le balene. Bill ignora il dolore al polso mentre mira e spara la seconda figura barcollante. Boom! Mangiami! Dice la maglietta. Bill scoppia a ridere. Mangiati questo! Testa di merda! Sventola la magnum. Ha il polso in fiamme. È vivo. Corre verso il quartier generale della squadra. Quando è a soli tre metri la porta si spalanca. Lui spara automaticamente. L'ultima pallottola. Puntamento rapido e dritta in fronte per Dio. Cosa dice la sua maglietta? Si china. Strappa la piccola torcia delle vita che si contraggono e la punta verso il basso. Niente maglietta. Un chimono. Aperto a mostrare un seno. Non dice niente. Il cerchio di luce sale fino agli occhi vuoti. Alla fronte perforata. Ai capelli rossi. Bonnie. Capitolo 18 Leonard cammina nella foresta dei morti. È uno di loro e loro lo lasciano in pace. È avvelenato. È tabù. È carne marcia. Leonard comincia a ridere. In lontananza degli spari. Sudando vaga con un sorriso fra la rigogliosa flora tropicale. Ce la farà. Loro lo lasceranno in pace. Solo Leonard può raccogliere il guanto di sfida dei morti. L'individuo rifiutato dal branco finalmente trionfante. Darwin al contrario. Coloro che non sono sopravvissuti permetteranno all'indesiderato genetico di continuare a vivere. Un altro sparo. Leonard si ferma. Perché si rende conto che adesso per lui sono più temibili i vivi. Allora salirò su un albero. Resterò seduto su un ramo e aspetterò l'alba. E poi? Sarò libero. Libero di fare tutto ciò che voglio. Per tutto il tempo che... Che mi rimane. Trova un albero adatto e comincia ad allontanarsi dal terreno coperto di foglie. Merli pensa che sia venuto il momento di abbandonare la nave. Udendo i primi spari si è mossa. Spinta dalla preoccupazione per l'ecosfera e per la salvezza degli altri. Ma ora si accorge che da parecchio tempo l'ecosfera non è altro che una nave fantasma. L'olandese volante del deserto dell'Arizona. E che il motto del suo equipaggio è sempre stato ognuno per sé. La situazione attuale non fa che ribadire quel punto. No. È troppo tardi per riparare le falle. Per tornare a essere una squadra. Non esiste una via di ritorno verso l'età aurea del passato. È tempo di saltare su uno scialuppa e di remare verso la riva. Merli esce dal corridoio di accesso e si accuccia vicino al vetro. Intasca la chiave dell'armeria presa dal corpo di Dick sulla spiaggia. Nell'armeria ci sono le chiavi della Land Rover insieme ad altre armi e munizioni. Corre avanti, sempre chinata, la carbina pronta. Quasi inciampa nel corpo di un maiale, a metà della testa spappolata. Billo stronzo. Si affretta verso l'habitat. Al buio ogni forma è una minaccia. Perché non ha pensato a prendere una torcia? Beh, quello non era certo il genere di emergenza che avevano previsto. Ma non era esattamente il tipo di emergenza che avrebbero dovuto prendere in considerazione. La ruggine delle piante non impallidiva forse al confronto. Si dirige verso le tre alte file di Gran Turco. Da quel punto potrà esaminare i dintorni prima di procedere. Ho un corpo fra i gambi. A faccia in su, ma ormai senza faccia. Più sotto, salviamo le balene. Gli gira intorno e si allontana un po' prima di inginocchiarsi sul terreno ricco. Odore acuto di fertilizzanti e azotati. Guarda verso gli alloggi. La porta è rimasta socchiusa, bloccata da un corpo. Può vederlo solo dalla vita in giù. La parte superiore è dentro l'edificio. Troppo buio per capire chi sia. Un fruscio nel Gran Turco. Merli si immobilizza. Si sforza di ascoltare. Ma è difficile con il suono del suo respiro e del battito del suo cuore che le riempie le orecchie. Gira lentamente il capo. Il fruscio si avvicina alla sua destra. Si volta da quella parte e assume la posa del tiratore. La gamba destra indietro con il peso sul ginocchio. La gamba sinistra in avanti. Il gomito sinistro sul ginocchio sinistro. Il fucile puntato. Là! Barcolla verso di lei quasi ubriaco. Si muove molto lentamente. Merli ha tutto il tempo che vuole. Rinsalda la stretta sul calcio. Mira e spara. Il fucile sobbalza leggermente. La figura ubriaca uscilla all'indietro. Inciampa nel corpo alle sue spalle e cade a terra. Ma si rialza. Mira alla testa, ricorda Merli. Il torace è il bersaglio più facile, ma la testa è l'unica parte che alimenta quelle creature. Il midollo allungato. Preme l'otturatore con lo spigolo della mano e lo tira indietro. La cartuccia viene espulsa. Spinge l'otturatore in avanti e quello si blocca. Lo tira ancora indietro e lo spinge di nuovo in avanti. Inutile, si è inceppato. Lo spaventapasseri si avvicina fra il gran turco. Se solo avessi un cervello. Si alza e si volta per finire fra le braccia di un altro. La stringe. Puzzo di carne putrefatta. Apre la bocca. Le otturazioni d'oro, chissà come, scintillano. Una lacerazione a mezzaluna in un lobo dove l'orecchino è stato strappato. La sua testa si china verso di lei. Merli solleva un braccio e lo ferra per la gola, costringendolo a sollevare la testa. La carne contro il suo palmo è pendula. È fredda come cuoio. Come toccare il collo di una tartaruga. Lo colpisce a un fianco con il fucile, ma non c'è spazio sufficiente per un colpo molto forte. La creatura emette un fievole belato. Odore di aria stantia da polmoni morti. Tutto in silenzio. In troppo silenzio. Assurdamente. Lei pensa che dovrebbe esserci più rumore. Si sente afferrare per i capelli da dietro. Si volta. E la cosa affamata si volta con lei. Incuneata adesso fra lei e la prima creatura. Merli continua a premere contro la gola che non respira più da chissà quanto tempo. Mentre l'altra creatura cerca di brancicarla da sopra le spalle della collega che la trattiene. Merli non riesce a liberarsi. Pop! Come un tappo di champagne. Il carnitrofo che non la trattiene scivola di lato. Resta in equilibrio su una gamba sola come un mimo da strada impegnato in un'oscura imitazione e cade. Quello che la trattiene sposta la testa da un lato all'altro e schiocca i denti cercando di mordere la mano con la quale vuole nutrirsi. Clac! 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 Giralo! Grida qualcuno. Giralo verso di me! Stra maledetta! Merli fa un ultimo sforzo. Per un istante pieno di panico si sente sbilanciata prossima a cadere addosso alla creatura ma riesce a sollevare una gamba a piantarla nell'inguine della creatura e a ruotare su se stessa. Un suono forte martellante alla sua destra. La testa della creatura si sbuccia e si squaglia come un'albicocca troppo matura. Merli viene trattenuta ancora per un istante poi sente le dita morte contratte da spasmi contro la sua carne. Infine la creatura crolla e lei la spinge lontana e fa un salto indietro voltandosi verso chi ha sparato. Un fascio di luce ma chi c'è dietro la torcia? Bill Teter Leonard La luce si avvicina facendo scintillare una canna corta di fucile e mitragliatore poco sopra. Tu! Lui annuisce la luce non vacilla lui la scherma con la mano sinistra a coppa Vattene di qui! Dice ma io non Fila via! La festa sta per finire Merli riflette un attimo poi annuisce Stavo appunto per andarmene Ottima idea! Lei è sul punto di ringraziarlo ma si ferma A quel punto non servono i ringraziamenti Lui non l'aveva ringraziata per il cestino, vero? Merli annuisce di nuovo Devo prendere cibo e munizioni Ti rimangono ancora dieci minuti Gli altri Devo Gli altri si fottano Prendi la tua merda e taglia la corda Tuttavia lei esita ancora Sono una botanica So come far funzionare questo posto Posso dare da mangiare a te e tua moglie e al vostro bambino Non era un bambino vero La luce si abbassa Poi torna a sollevarsi Una testa morta? Testa? Oh mio Dio Ce ne sono un sacco La fuori di testa è morte così Ma tu non potevi saperlo Sei sempre rimasta qui dentro Merli sente qualcosa Che le si rivolta contro Le si rivolta dentro Un mondo di bambini morti Che strisciano senza un attimo di riequie Requie Masticando con le bocche sdentate Vuoi la stazione? Questo lo capisco Ma ascolta Io so come farla funzionare Non puoi tirare avanti senza Non voglio che tiri avanti Voglio farla a pezzi Farla? Merli cerca il suo viso sopra la luce Poi anuisce ancora Sì Sì lo immagino Otto minuti La luce si spegne E lui scompare Capitolo 19 Bill con la sua torcia tecna Nel frutteto La pistola in pugno Il polso gonfio da far paura Incursione Evasione Avanzata furtiva Eliminazione delle sentinelle Ce n'è un altro davanti a lui È morto Jim Puoi scommetterci le palle Sherlock Cose sugli alberi Una volta cibo Ma non più odore Ricordo a cuoline in bocca Ma adesso niente C'è luce verso luce Per cibo Con luce Lei con luce Le sue mani stringevano L'albero del cibo Nutrivano Infilavano in mia bocca Io mangiavo il cibo dell'albero Ma non il cibo È la sua mano Che stringe luce Dietro luce C'è cibo E se raggiungo la luce Mangerò E sarò io E saprò Bill regge la piccola torcia Con il polso destro slogato E solleva la pistola Con la sinistra Merly apre al buio L'armadio trasformato in armeria Prende una torcia Da un ripiano Esamina l'interno L'interno della stanza E comincia a raccogliere Scatole di munizioni In una cassetta Di plastica arancione Dieter stacca il suo corpo Crivellato di proiettili Dal pavimento E scende barcollando Il corridoio buio Dietro di lui La porta della stanza Dei generatori Si richiude con un tonfo Bonnie si raffredda Metà dentro E metà fuori Dalla porta d'ingresso Degli alloggi Leonard Aspetta l'alba Sul ramo Di un albero sudamericano Haifa galleggia Dolcemente sull'oceano Fiorando il sottile Cordone litorale Nostromo piazza Un'ultima carica I maiali corrono La cieca Fra l'oscura geometria Delle coltivazioni Bill prende la mira E spara la cosa Che brancola Verso la sua luce Preparandosi ad assorbire Il rinculo Merly Accumula pacchetti Di cibo disidratato In un sacco di plastica Per la spazzatura Clic Bill Fissa meravigliato La sua pistola La luce che voglio raggiungere Perché dietro la luce C'è sempre cibo Dirigendosi Verso la porta di uscita Con le provviste E un fucile a tracolla Merly Vede Dieter Che si allontana Da lei Scendendo con andatura Barcollante Il corridoio buio Nostromo si ferma Capitando a cadere La cassetta arancione E il sacco Della spazzatura Leonard si gode La debole sfumatura Corallina Che tinge Il bordo Dell'orizzonte Jojo Si gode La carne calda Di Bill Sotto le foglie Dei meli Merly Alza il fucile Il viso di Dieter È una smorfia contorta Che lei ricorda Dai loro orgasmi Nostromo gira la chiave Preme la frizione Inserisce la prima E si allontana Tranquillo lungo la strada Bill fissa Con occhi immobili L'infinito della notte Che sfuma Sopra il tetto di vetro Della sua piccola isola Civilizzata Merly Abbassa il fucile Dieter Si protende Bisognoso Verso di lei Leonard Siede sempre Sul tuo Leonard Siede sempre Sul suo trono Frondoso I piedi dondolanti Ad ammirare Il sorgere del sole Merly raccoglie La cassetta arancione E il sacco Della spazzatura Si gira E scavalca Il corpo di Bonny Che le tiene aperta La porta Luce Poecivo Io muovo Per suoni Non da casse Ma suoni Che sento comunque Lei allunga La sua mano Nostromo Si allontana Di poco Più di un chilometro E accosta Di fianco Una bassa collina Girando il camioncino Per avere L'ecosfera di fronte Un debole lucichio Di vetro e alluminio Sotto i primi raggi Di sole Merly esce di corsa Dal portello stagno Getta sacco E cassetta Sul retro Della Land Rover Butta il fucile Sul sedile Del passeggero E infila La chiave Nel quadro Nostromo Sbircia Il lungo Specchietto Retrovisore Sulla portiera Ma aspetterà Finché il sole Non si sarà Levato Sopra l'orizzonte Un debole Ronzio Sotto il cofano La batteria Scarica Merda E i suoni Più forti E altri Si muovono E lei Mi guarda Con la mano Tesa E la bocca Si apre Suoni Dalla bocca Dal suo Trespolo Leonard Guarda Merly Che apre il cofano Della Land Rover Ma si Lei può andarsene Possono andarsene Tutti Adesso Leonard sa Chi è lui In realtà La morte Dentro il suo corpo Ha trovato Un proprio Fondamento puro Non ancora Raffinato Nella morte All'esterno Nostromo Apre la portiera E scende Il sole E una cupola All'orizzonte Un'esplosione Nucleare Congelata L'occhio Di Dio Merly Toglie la batteria E la getta Sull'asfalto Ce ne sono Diverse altre Sul retro Della rover Bill E Era Sempre Meticoloso In queste cose Un movimento Le fa girare il capo Una figura Dentro l'ecosfera Preme contro il vetro I lineamenti Cadaverici Appiattiti Sovrastano una maglietta Che dice I giocatori di rugby Mangiano i loro morti Nostromo Inspira l'aria fresca Del mattino Che soffia sul deserto Si toglie la fascia elastica Dai capelli Per sentirli Inondati Da quella brezza Si sente molto vivo In lontananza L'ecosfera scintilla Come un giocattolo Abbandonato Merly richiude Con un tonfo Il cofano Sale sulla Land Rover E gira la chiave Una volta Due volte Poi il motore Finalmente si avvia Esce dal parcheggio Facendo stridere le gomme E Leonard La saluta Dal suo albero Capitolo 20 Il sole si stacca Dalle montagne Che frastagliano L'orizzonte Nostromo Va verso il retro Del camioncino E apre il portellone Prende una cassa Dal fondo Ricoperto di legno E da quella Estrae una scatola Allunga l'antenna Telescopica E preme un pulsante Una luce rossa Si accende Carica Collegata Porta con sé La scatola E va a sedersi Sul cofano Del camioncino Se la posa in grembo E preme un altro pulsante Un'altra luce rossa Ammicca sopra La scritta bianca Innescata Nostromo Fa crocchiare Le nocche E guarna in lontananza La struttura di alluminio Che sorregge I pannelli Di vetro triangolari Adesso la parte migliore Aspetta a me Dice E solleva un dito Oh no Non lo fare Il dito esita Nostromo Guarda sulla destra Il vento Gli sbatte i capelli Sugli occhi Scuote la testa Per liberarsi La visuale La ragazza cinese È in cima Alla collina E gli punta Addosso una carabina Si fissano Attraverso il pendio Arancione La canna Del fucile Compie un breve Gesto verso destra Nostromo Posa la trasmittente La ragazza Stringe la mascella Nostromo Scende dal cofano Caldo Del camioncino Lei scende Dalla collina Verso di lui Nostromo Allarga le dita E allontana Le mani dal corpo Siediti Dice lei Nostromo Obedisce Mani sopra la testa Nostromo Obedisce Non mi lasci Mai divertire Cosa contavi Di fare Dopo Chiede lei Nostromo Alza le spalle Non lo so Ho un mucchio Di provviste Sul camioncino Andare nell'oregon Magari Trovare qualche Fottuto rifugio atomico Da quelle parti E installarmi là Cerco di non farmi Troppe illusioni Sul futuro E tu? Tocca a lei Alzare le spalle Il parco di Iosemite Forse Lui Soghigna Orsi Opossum Stufato di Procione È quello che Suppongo che sia? Merli indica Il capo Con il capo La trasmittente Sul cofano Non intendevo Suonare del rock and roll Se intendi questo Come pensavo? Lei gli tiene puntata Addosso la carabina E si impossessa Della trasmittente Due pulsanti Brillano rossi Carica collegata E Innescata Poi c'è un pulsante Senza luce Detonare Lei alza lo sguardo Su di lui Che si agita irrequieto Sotto l'occhio vacuo Del fucile Nervoso? Dobbiamo smetterla Di incontrarci In questo modo Non posso permetterti Di farlo Mi dispiace Perché no? Nostromo Abbassa le mani Sei come Quegli altri stronzi Stai ancora Tentando di perseverare No Merli abbassa Il fucile Verso la strada E solleva la trasmittente Tira un profondo Respiro Perché voglio Farlo io Alza una mano Capitolo 21 Dieter Esplora L'acquario Dei morti Intrepido Esploratore Marziano E finalmente Accettato Dal mondo Cui appartiene Cartografo Dei dannati Bill Risorto Rinato All'alba Finalmente In pace Con il mondo E soddisfatto Della sua unica missione Nutrirsi Leonard L'arboreo Monumento Alla sconfitta Di Darwin Leonard Rex Mortuorum Re dei morti Leonard Finalmente Al potere Pronto A tornare Sulla terra Illuminata Per prenderne Possesso Con il suo Nuovo Popolo Per regnare Sulla nuova Necropoli Altri Altri Ma niente Per loro Io cammino C'è luce Dopo gli alberi Del cibo Vado vicino Premo il viso Contro il chiarore Verso la luce Chiudo gli occhi E lei è là Con le mani morbide C'è musica E Roger Lei dice Roger Viene a ballare con me E io la prendo per mano E apro gli occhi E c'è musica E luce Io ricordo Capitolo 22 E abbassa un dito E finisce così Il racconto Come cani di Pavlov Il racconto più lungo Di questo libro E ho scelto di registrarlo In più Sessioni Da montare tutte insieme Piuttosto che Fare 1500 puntate Che avrebbe tirato Per le lunghe Il racconto Ce l'avete così Completo E Adesso Un Ah vi chiedo scusa Se qualche volta Ho pasticciato Un po' con i timbri Di voce Riguardo i personaggi E' stato Scritto in modo Particolare E molte frasi Mi rendevo conto Che venivano dette Da un personaggio Però dopo Che le avevo già lette Quindi Ormai era troppo tardi Per tornare indietro E cambiare timbro Diversamente Quando vado a fare Audiolibri In studio Con tutto l'edit Che consegue Se mi accorgo Se mi accorgo di un errore Del genere Allora ripeto La frase Ma qua siamo Su no edit E vi siete beccati Il libro così Poi erano molto interessanti Le parti Che erano pensate Erano i pensieri Degli zombie Praticamente Spero che si siano capite Erano quelle Quelle frasi Tutte di fila Senza punteggiatura Infatti Prendevo dei respiri lunghi Ed erano altri Ma niente per loro Io cammino C'è luce Dopo gli alberi Del cibo Vado vicino Premo il viso Contro il chiarore Verso la luce Chiudo gli occhi Eccetera Eccetera Molto interessanti Volevo dare Un piccolo premio Premio Un contentino Diciamo Per chi è rimasto Sino alla fine E sta ascoltando Anche adesso Visto che mancano Uno Due E tre Racconti Per finire Questo libro E io voglio Continuare A fare Questo format No edit Appunto Con un altro Libro Dopo Che finirò Questo Chi è rimasto Qui Fino alla fine Può Votare Il prossimo libro Da leggere In Noelle E ora Ve le faccio Vedere Quelli che ho scelto Intanto Accendo la luce Che Si è fatta Notte Qua So Ho scelto Uno comico Che è Groucho Marx Memoria Di un Irresistibile Libertino È una sua Credo Biografia Però Scritta Alla Groucho Marx Uno Spirituale David Lynch Uno dei miei Registi Preferiti In Acque Profonde Che parla Delle sue Esperienze Di Meditazioni Trascendentali E poi Uno dei miei Autori Preferiti Un libro Leggero Roald Dahl Roald Dahl Un gioco da ragazzi E altre storie Per chi non lo conoscesse Ma non credo che nessuno Che ci sia qualcuno Che non conosca Roald Dahl È l'autore Di La fabbrica di cioccolato Quindi scrivete nei commenti La vostra scelta Io conterò i voti Di ogni libro Ripeterò questo sondaggio Sempre alla fine Del racconto Degli altri Tre racconti Del libro Dei morti viventi Che Metterò Nelle prossime Sere È solo Chi guarda Sino alla fine Avrà la possibilità Di votare È una sorta di Premio fedeltà Fatemi anche sapere Che cosa ne pensate Di questo racconto Come cani di Pavlov E Niente Ci vediamo Al prossimo No Edit E grazie per aver ascoltato Ciao